Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti in questo nuovo videogiornale Come ogni anno il grande fratello VIP puntualissimo torna a farci rabbrividire Il grande fratello VIP è come Halloween ragazzi, l'appuntamento dell'anno con l'orrore E anche quest'anno, cioè quest'anno proprio anche per chi non segue il grande fratello Anche chi ha bloccato sui social tutti quelli che seguono il grande fratello perché proprio non ne vuole manco sentire parlare Anche chi si è rifugiato nel pizzo di una montagna dove non piglia l'antenna pur di non ritrovarsi per sbaglio spettatore del GF VIP Rendendosi complice anche solo per un secondo di questo affronto all'umana decenza Purtroppo comunque si è ritrovato inondato da articoli sul grande fratello In particolare articoli sulla seguente notizia ragazzi Bullismo dentro la casa del grande fratello VIP Mannaggia Ora ragazzi, io la prima volta che ho sentito questa notizia, sincera, onesta, ho pensato Wow Che novità Bullismo al grande fratello inaspettato Cioè sarà almeno dalla scorsa edizione che non succede, che non si vede un bullo dentro la casa del grande fratello Tuttavia ragazzi, una volta che mi sono informata meglio sulla questione Ho ben presto esordito con Mint Perché effettivamente questa volta è diverso, questa volta proprio, cioè non c'è un personaggio capito che fa il bulletto a caso Si è proprio formato un branco E questo branco si è scagliato schematicamente contro un solo concorrente di nome Marco Bellavia Da prima schernendolo, poi via via aggredendolo verbalmente e infine marginandolo Ok ragazzi, quindi a questo punto sicuramente già penserete grave, gravissimo Non avete sentito niente ancora Infatti Marco Bellavia è stato schernito, aggredito ed emarginato in quanto depresso ragazzi Cioè soffre di depressione, o meglio soffriva in passato di depressione E la situazione dentro la casa del grande fratello gli ha provocato una ricaduta Ma c'è di peggio addirittura ragazzi Infatti Marco Bellavia è stato schernito, aggredito ed emarginato Dopo avere chiesto al gruppo di essere aiutato a stare meglio Cioè ha detto ragazzi per favore se mi aiutate forse ce la faccio a riprendermi un attimo E quindi loro gli hanno dato direttamente il colpo di grazia La razza umana si è superata a questo giro Ciò che è successo è inaudito, è disgustoso Ragazzi mi avrei gli aggettivi per definire quello che è successo Però insomma non vi annoio Ed è per questo che per quanto il grande fratello VIP a me non piaccia C'è proprio in fondo alla lista dei programmi televisivi che trovo lontanamente gradevoli Ma non per fare del moralismo spiccio Perché insomma non mi piace fare quella che si sente superiore perché non vede il grande fratello Però insomma mannoia, mannoia come la fiorella Nonostante ciò però oggi siamo qui per parlare del brutto caso di Marco Bellavia Partendo intanto da chi sia questo Marco Bellavia Perché comunque contestualizzare è importante Nel senso che questo si suppone essere un VIP Però i più di voi diranno chi mi c'è E poi passeremo a esaminare tutti i vari episodi di bullismo che sono avvenuti tra le mura della casa più spiata d'Italia Episodi che ragazzi vi faranno proprio inorridire E chi non inorridisce è complice Comunque ovviamente parleremo anche di come Alfonso Signorini Cioè il conduttore del grande fratello VIP abbia gestito la cosa Parleremo poi di come si sia conclusa la polemica Insomma di carne al fuoco ragazzi Oggi ce n'è tanta Così tanta ce n'è di carne al fuoco Che sicuramente Armie Hammer ci sta guardando Ciao bro Ne vendute case oggi A questo punto ragazzi mettetevi comodi Fatevi una bella tisana rilassante perché ne avrete bisogno Preparate le emoji della casa E ogni qualvolta oggi vi verrà voglia di dire le parolacce Di insultare i concorrenti del grande fratello VIP Non fatelo e canalizzate tutta questa rabbia Tutto questo fuoco in questa emoji E piazzatene una nei commenti Così teniamo la sezione commenti più pulita E sosteniamo anche il canale Voi giustamente dite Iris perché proprio le emoji della casa Forse perché parliamo della casa del grande fratello No ragazzi Perché devono tornarsene tutti a casa Oggi io sono la Beppe Grillo del grande fratello Devono andare via tutti Detto ciò ragazzi non mi resta che dirvi Bentornati finalmente nel nostro videogiornale Cominciamo dalle basi Chi è Marco Bellavia? Lui Chi se lo ricorda probabilmente nell'ultima settimana Si è spalmato la volta rene da qualche parte Perché insomma l'età è evidentemente quella che è Marco infatti era famoso nell'era geologica di Bim Bum Bamo Una trasmissione per bambini degli anni 90 e dei primi anni 2000 Che conteneva tante altre trasmissioni Cioè fungeva da cornice Da contenitore A una serie di cartoni animati Per esempio Chi smilicia Piccoli problemi di cuore E suppongo altri Comunque sta di fatto ragazzi Che Marco Bellavia Conducesse questo Bim Bum Bam In compagnia di Di altra gente Comunque non era l'unico conduttore Ma soprattutto era in compagnia di questo pupazzo Juan Juan per me a pelle è un pervertito Ma non ho prove per argomentare questa opinione In quegli stessi anni 90 A un certo punto viene realizzato una serie tv Sul trash andante Basata sul cartoni animato Chi smilicia Il titolo della serie tv è Love milicia Che io mi sono sempre chiesta Ma a sto punto perché non lasciare tipo Chi smilicia I baci non erano family friendly Evidentemente al tempo Vabbè Comunque chiunque nella propria vita Abbia avuto la fortuna Di vedere un episodio Di Chi smilicia Sa che in pratica La protagonista del cartone Ragazzi appunto Questa lì C'ha fosse innamorata Di un certo Mirko Il quale era il frontman Di una boy band Ovvero I Beehive Band formata Da cinque Cinque manzi Ebbene ragazzi Indovinate chi Nella serie tv Love milicia È stato chiamato A interpretare Il ruolo di Steve Dei Beehive Proprio il nostro Marco Bellavia Ragazzi a tal proposito Io ci tengo troppo a flexare Il mio vinile Dei Beehive Con Marco Bellavia In copertina Cioè guardate che pezzo Di antiquaria Cioè una reliquia Ma torniamo a noi ragazzi Grazie alla serie tv Love milicia Marco Bellavia Diventa molto popolare Diventa un idolo Delle ragazzine E la fama Lo porta a montarsi Moltissimo la testa A un certo punto Marco Nel pieno di questo successo Conosce una valletta Del programma La ruota della fortuna Tale Paola Barale I due si innamorano Marco e Paola Fanno coppia Per un po' Lui le regala Pure un anello Insomma si promette Mi permettono di sposarsi Ma la cosa purtroppo Naufraga Naufraga Prima del matrimonio Infatti a un certo punto Paola conosce Il ballerino Giovanni Sperti Che danzandogliela Porta via E niente ragazzi Fine di Marco e Paola Barale Qualche anno dopo Marco Bellavia Inizia a lavorare a forum La trasmissione Per intenderci In cui si inscenano I processi E Non ho capito bene Cosa facesse Marco In sta trasmissione Cioè se la conducesse Se facesse l'attore Nelle scenette Tipo in cui Vengono ricostruiti Drama In versione telenovela Non l'ho capito Sta di fatto Che in questa fase In cui a forum Appunto Lavora Marco Bellavia La conduttrice Ragazzi È Paola Perego Attenzione ragazzi Non me la scambiate Con Paola Barale Sono due paole diverse Dunque Che succede A forum Dietro le quinte Accade Accade qualcosa Io non lo so Cosa ragazzi Ma qualcosa accade Qualcosa di brutto Tra Paola Perego E Marco Bellavia Al punto che La media set Decide di allontanare Marco Tanto è vero Che piano piano Nel giro di poco tempo Di Marco Bellavia In tv Si perdono le tracce Cioè da prima Marco Inizia a comparire Solamente nei canali Che non si fila nessuno Dopodiché Scompare Musica E Marco Scompare Di Marco ragazzi Non si sa più niente Per tantissimi anni Praticamente ci fa Un ghosting di massa Marco Bellavia Per ricomparire All'improvviso Nel 2017 Addirittura Cioè Un sacco Di decine Di anni dopo Con un post Tutto indignato Con il quale Marco fa capire In modo molto 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 Velato Quello che forse Potrebbe Essere successo Perché proprio Nel 2017 Infuria Una polemica Contro Paola Perego Infatti Durante la trasmissione Da lei condotta Parliamo ne sabato Paola Perego Se ne esce Con un servizio Di pessimo gusto Sulle donne dell'est Ve lo ricordate Questo scandalo Vi rinfresco la memoria Ragazzi Paola Perego Nel 2017 Trasmette Sugli schermi Di Parliamo ne sabato Questo schemino Dal titolo I motivi Per scegliere Una fidanzata Dell'est E nel suo salottino Si inizia a discutere Di questa cosa Ora io Vi risparmio I dettagli Di questa lista Ma comunque Sappiate che Un cocktail Di sessismo Razzismo Ignoranza Cioè proprio Il peggio Del peggio Del peggio Ve la potete immaginare La shitstorm Ragazzi Addirittura Paola Va a piangere Alle iene In questa bufera Interviene proprio Marco Bellavia Che a quanto pare Ce l'ha con Paola Perego Da prima che andasse Di moda Cioè da tempo Immemore E non aspettava Altro che Il momento giusto Per farlo sapere Cioè Anche un po' Per vindicarsi Diciamo Infatti ragazzi Marco nel 2017 Scrive Che questa shitstorm Ai danni di Paola Perego Sostanzialmente Altro non sia Il karma Che la sta punendo Perché 15 anni prima Lei ha rovinato La carriera Quindi lui Diciamo è uno Che non porta A rancore Ma tu ti rendi conto Che cosa mi hai fatto 13 anni fa Vi leggo Cosa scrive Di preciso Marco Bellavia A riguardo Sferro con umile Orgoglio Questo attacco All'ex conduttrice Di forum Che ha in prima persona Messo fine Alla mia carriera In tv Indipendentemente Dalle mie abilità Veder la signora Presta Ovvero Paola Perego Perché Paola Perego È sposata Con tale Lucio Presta Vedere la signora Presta Ovvero Paola Perego Piangere in tv Alle iene Mi fa ridere Perché in primis Sono certo Che siano lacrime Di coccodrillo Secondo Perché la signora Ai tempi In cui mi faceva Fare il suo Valletto A forum Mi scagliò Contro Talmente Tanta rabbia E cattiveria Con sue supposizioni E calunnie Gravissime Da stoppare E chiudere Definitivamente Nel 2002 La mia carriera TV Iniziata Onestamente E ribadisco Onestamente Nel 1986 Inutile raccontare Cosa ha fatto E detto State certi Che non si è Risparmiata Ci sono naturalmente Testimoni in persona Che hanno assistito A tutto Si può raccontare Che si è lavorato Male insieme Che il sottoscritto Sia meno abile Di quanto potesse Sembrare O che non fossi Sposato Con un potente Agente tv Ma Cioè in sostanza Sta dicendo Non ero Nel raccomandato Nero Bravissimo Ma La cosa Che mi piace Condividere E che Dopo Scontri E non Incontri Con persone Cattive Disoneste E maligne Il riscatto Prima o poi Vi farà Davvero Volare Non mollate mai Non abbiate paura Siate voi stessi Prima o poi Hashtag La ruota Gira Riepiloghiamo Paola Perego Avrebbe accusato Marco Bellavia Di aver fatto Qualcosa di gravissimo Nel periodo in cui Entrambi lavoravano A forum Qualcosa di talmente grave Che avrebbe spinto La produzione Ad allontanare Marco Bellavia Dagli studi Di Mediaset Per sempre Tuttavia Secondo Marco Quelle di Paola Erano solo supposizioni Nonché calugne Ora ragazzi Ovviamente Non sappiamo Di cosa Paola Abbia accusato Marco Chissà Di cosa Lo avrà accusato Davvero difficile Da immaginare Che Juan Il pupazzo Pervertito Abbia avuto Un'influenza Negativa Su Marco Chi può Dirlo Sicuramente Si tratta Di qualcosa Che a Marco Non conviene Dire apertamente Nonostante Secondo lui Sia tutto Falso Perché Né in questo post Né da nessun'altra parte E manco Fino ad oggi Al grande fratello Vip Ragazzi Marco Bellavia Se mai Azzardato A tirare in ballo L'argomento E a dirci Cosa cacchio Gli abbia fatto Di preciso Paola Perego Di così grave Da farlo buttare fuori Dagli studi di Mediaset Addirittura Ciò che vi posso dire Che a questo post Di Marco Bellavia Del 2017 Aveva risposto Proprio il marito Di Paola Perego Appunto Questo Lucio Presta Commentando Caro signor Bellavia Si taccia Altrimenti Mi vedrò Costretto Ad agire per vie legali E dire Le vere motivazioni Del perché Mediaset L'abbia allontanata E mi sa Che purtroppo Il signor Bellavia Si è tacciuto Perché ancora oggi Non sappiamo Le vere motivazioni Per cui Mediaset L'abbia allontanato Ma secondo me Ragazzi Questo è un vaso Di Pandora Che prima o poi Verrà scoperchiato Questione di tempo Nonostante Tutto sto casino E nonostante Mediaset Per qualche motivo Non voglia più Sentire la presunta Puzza di Marco Lui vorrebbe tantissimo Tornare in tv Tanto che Il 21 marzo 2019 Viene intervistato Da una radio Molto umile Comunque Credo sia una radio Universitaria A giudicare dal nome Cioè si chiama Radio Cusano Campus E in questa intervista Ragazzi Marco A parte fare un pochettino Il boomer Nostalgico Perché dice cose tipo Ah non ci sono più Gli artisti Una volta Non ci sono più I cartoni animati Di una volta I cartoni animati Di oggi Sono imbarazzanti Insomma cose dette Così ragazzi Secondo me Perché lui In fondo Si vergogna molto Del fatto che Non se lo fili più Nessuno Cioè almeno Il suo tono di voce Mi suggerisce questo Magari mi sbaglio Però mi suggerisce Proprio che si vergogna Della cosa Quindi secondo me Nell'intervista Cerca di convincere Chi lo ascolta Del fatto che La colpa Della sua assenza In tv Non sia Della sua mancanza Di talento Ma del sistema Che ormai Fa schifo E privilegia Chi talento Non ne ha Infatti dice Ormai in televisione Vanno sempre Gli stessi Quattro gatti Un po' così Un po' Un discorso Un po' Alla salmo Ma insomma A parte questo Marco Bellavia Dice qualcosa Di molto specifico In questa intervista Cioè Ragazzi Marco dice Mi piacerebbe Fare dei reality In particolare Mi piacerebbe Partecipare Al grande fratello Il grande fratello Sarebbe Forse più tranquillo E devo dire Che forse Oltre Di tutto Ecco qua Ebbene Passano tre anni Alfonso Signorini Il magnanimo Alfonso Signorini Il signorini Che tutto sa Che tutto vede Decide di accontentarlo Infatti Nel cast Del grande fratello Vip Già prima Dell'inizio Della trasmissione Compare proprio Il nome Del conduttore Di Bim Bum Bam Marco Bellavia La presentazione Di Marco Bellavia Sul sito Del grande fratello Ragazzi Sottolinea Che questo Sarà Il suo Grande ritorno Sul piccolo Schermo Ora Tra le varie Informazioni Il sito Del GFVip Riporta Che dal 2006 Marco Bellavia Faccia Il mental coach Apriamo quindi Una parentesi Su questa cosa Ragazzi Perché ci servirà Più avanti Questa cosa Che lui Si è diventato Un mental coach Nel 2006 Allora Torniamo agli anni 2000 Perché qua siamo andati Troppo avanti Marco Agli inizi del 2000 Conosce una donna Di nome Elena Trabaia E i due Insieme Mettono al mondo Filippo Cioè non Filippo Quello che sta Là dentro Filippo Un altro Filippo Bellavia Ma purtroppo Le cose Tra Marco Ed Elena Non funzionano A un certo punto Non funzionano Più Insomma I due Si lasciano Cos'è che Capitano Ai vivi Però nel frattempo Succede anche Questa cosa Che Marco Venga liquidato Dalla media Sette anche Con molto Disprezzo Quindi ragazzi Capite che Si innescano Tutta una serie Di situazioni Che portano Marco Bellavia A sentirsi Popopopopopo De merda Proprio un fallimento Su tutta la linea Si sente Marco Perché da che la sua vita Andava a gonfie vele C'aveva orde di ragazzine Sotto casa Che lo amavano Una famiglia felice Le tasche piene Aveva tutto A che nel giro Di niente Marco Perde Tutto ciò Che Perde tutto Si ritrova Senza lavoro Senza compagna E con un pugno Di mosche Quindi a conti fatti Ragazzi Io penso che sia stato proprio per questi due eventi infelici della vita di Marco che Marco Bellavia sprofonda a questo punto in una brutta depressione attenzione ragazzi comunicazione di servizio non è Marco a collegare questi due eventi alla depressione è un collegamento che sto facendo io perché comunque gli succede guarda caso in questo periodo e perché collego la sua depressione, cioè lo scatenarsi della sua depressione a questi due eventi ragazzi cioè appunto l'allontanamento della mediaset e la rottura con Elena perché comunque spesso chi soffre di depressione tende a interpretare proprio eventi come questi la perdita del lavoro, la rottura di un matrimonio come un fallimento personale cioè si pensa è tutta colpa mia, sono un fallito, non riesco a fare niente di buono non riuscirò mai a fare niente di buono nella mia vita, tutto quello che comincio finisce male e si entra in un tunnel molto buio e doloroso in cui ogni piccola minima cosa spiacevole che succede una cosa che per chiunque altro magari è irrilevante ecco per una persona depressa non è irrilevante anzi è una conferma della propria incompetenza e del proprio non potercela fare non lo so sbatti il mignolino nel mobile e dici visto sono un coio sbatto il mignolino sono un coio non me li merito i mobili figuriamoci insomma quando si tratta di cose grosse come il naufragare di un matrimonio di una carriera lavorativa in tv che era cominciata progetti sui quali ha investito e questi eventi stessi possono scatenare la depressione in un soggetto incline a questo tipo di disturbo so ragazzi sono l'airis del futuro devo fare una giunzione anzi devo fare una correzione perché sto leggendo sul blog di Marco una cosa che mi era sfuggita cioè una data lui dice che si è liberato dalla depressione che lui chiama la bestia nel 1987 e quindi in realtà gli è venuta prima di divorziare prima di essere mandato a casa dalla media ma in effetti c'è più senso così perché se poi è diventato mental coach ora ragazzi chi non ha mai sperimentato sulla propria pelle la depressione anche se la conosce a livello teorico secondo me fa fatica a immaginarla in modo nitido perché è una sensazione unica più unica che rara cioè io ho provato cosa sia la depressione nel periodo del post parto chi c'era forse se lo ricorda questo periodo perché avevo accennato il problema sui social e devo dire che me l'aspettavo diversa me l'aspettavo più carina c'è capito la si immagina come una tristezza cronica e in effetti è una tristezza cronica però insomma non è una tristezza normale capito è una sensazione diversa è più vicina alla disperazione c'è come se tutto intorno a te fosse buio nero senza amore e tu vuoi trovare un senso alle cose intorno a te ma non ci riesci perché c'è un vuoto c'è come una voragine aperta dentro di te che risucchia tutto quello che è bello e quindi non appena ti succede qualcosa di bello qualcosa che ti fa provare un barlume di gioia manco il tempo praticamente che sta voragine se la risucchia questa cosa la mastica e te la risputa brutta, rinsecchita e dolorosa cioè in qualche modo una cosa che sembrava che ti faceva stare bene cioè all'improvviso ti provoca malessere e la cosa brutta è il non riuscire a fare niente per cambiare questa cosa anche perché tu hai solo voglia di giacere e rimuginare ma non è pigrizia ragazzi attenzione semplicemente qualunque cosa fai qualunque azione compi ti fa percepire ancora di più il rumore di questa voragine che lavora e che prende tutto quello che vede per cui piuttosto che vivere questo malessere ogni secondo preferisci bloccarti non fare niente e nel migliore dei casi piangere perché l'unica gioia è piangere cioè piangere è la cosa più bella che si possa provare secondo me secondo il mio parere e secondo la mia esperienza durante la depressione perché il pianto è un momento di speranza ecco ricordate questa cosa quando parleremo di Marco Bellavia al grande fratello VIP ragazzi il pianto non è solo un momento di sfogo ma anche un momento in cui speri intimamente che qualcuno si accorga di te che si accorga di quello che hai e che ti aiuti tu non sai come nel senso non ti sai aiutare da solo figuriamoci se sai come ti possono aiutare gli altri però stai troppo male e ti scatta quel meccanismo di sopravvivenza per cui ti viene da dire vi prego qualcuno faccia qualcosa ovviamente ragazzi puntualizziamo esistono tanti tipi di depressione perché la depressione non è solo una patologia ma anche un sintomo di altri disturbi io non so esattamente quale tipo di depressione abbia Marco non lo sa nessuno ad oggi cioè nel senso non sappiamo a quale specie animale appartenga esattamente la sua bestia però insomma ragazzi per quanto possa manifestarsi modi diversi e con sfumature diverse di sicuro non è mai una vacanza sta di fatto che a Marco scatta questa bestia appunto ragazzi si sprofonda nella depressione e da quanto si capisce Marco ha delle pessime esperienze con professionisti del settore cioè va da degli psicologi però si trova male però per fortuna alla fine trova la propria strada infatti esce dalla depressione grazie all'aiuto di una life coach la life coach sarebbe una figura che ti aiuta a cambiare completamente l'organizzazione della tua vita al fine di renderla più produttiva e più positiva in ogni suo aspetto e Marco apparentemente a questo punto della sua vita sta meglio altro intervento dal futuro così veloce veloce perché vi voglio dire una cosa attenzione a sta storia che Marco Bellavia si sia ripreso dalla depressione grazie all'aiuto di una life coach perché questa cosa ci suggerisce che sì il life coach sicuramente può avere un forte impatto nel migliorare le conseguenze che ha la depressione su una persona quindi sentirsi un continuo fallimento sentirsi poco poco motivato ecco d'altro canto però se questo percorso non è accompagnato da una terapia cioè da una parallela terapia da un supporto psicologico insomma non risolvi le cause quindi puoi avere una ricaduta in un momento di forte stress perché comunque la lente con cui interpreti gli eventi che ti succedono rimane la stessa cioè la bassa autostima i sentimenti di autosvalutazione la paura del fallimento sono meccanismi che affondano le radici nell'infanzia quindi è una cosa che fa parte del modo di pensare ed è una cosa che scatta in automatico cioè come dire è ciò e tu dici grazie in automatico no? stessa cosa vieni licenziato da lavoro ti fai schifo quindi devi necessariamente risalire alle cause è resettarti cioè devi cambiare il tuo modo di pensare devi fare una modifica nel tuo modo di pensare non solo nella tua nell'organizzazione delle tue giornate ecco non è che impari a svegliarti presso la mattina e non sei più depresso sei un depresso che si sveglia presso la mattina se non vai allo psicologo insomma nulla togliendo alla figura del life coach perché io quando sarò ricca avrò il mio life coach quindi non vorrei poi essere tacciata di incoerenza sappiatelo a partire dalla sua ripresa nasce in marco una gran voglia di aiutare anche gli altri a stare meglio tanto che a un certo punto apre questo blog in cui si dichiara egli stesso un mental coach seppure lui si mette a insegnare alla gente come risolvere i propri problemi e come riorganizzare la propria vita in modo che sia piacevole e il suo metodo per fare ciò ragazzi cioè il metodo che insegna e tramanda i suoi discepoli diciamo è un metodo innovativo inventato da lui da marco bellavia e si chiama metodo 4.0 addirittura e il suo funzionamento è scritto tutto nel suo libro il libro di marco bellavia che è in fase di pubblicazione da anni tipo ora questa cosa ragazzi è abbastanza controversa perché marco bellavia non è un mental coach cioè non ha una certificazione da coach infatti andando sul sito dell'ICP l'associazione italiana coach professionisti il suo nome non risulta non esiste cioè certificatamente parlando marco non è un mental coach ed è una cosa losca questa perché con tutte le buone intenzioni che puoi avere andare ad agire su una persona che magari ha un disturbo mentale senza sapere quali termini usare che tipo di comunicazione adottare quali frasi non dire assolutamente come comportarsi di fronte a una persona con quel dato disturbo mentale può portarti a peggiorargli le cose a peggiorare i suoi sintomi cioè uno magari viene da te per farsi passare l'ansia e se ne torna a casa con i tic pigliare soldi così non è proprio una grande idea anche perché marco ragazzi ha questo blog in cui si propone proprio di aiutare persone con dei disturbi mentali lo scrive proprio lui per esempio offre una guarigione veloce addirittura più veloce della terapia a chi ha un disturbo d'ansia a chi vuole smettere di fumare che questa seconda cosa insomma può sembrare poco ma in realtà il vizio del fumo altro non è che è un disturbo da dipendenza da nicotina quindi appunto è una patologia a tutti gli effetti e per di più ragazzi marco bellavia in diversi punti del suo blog sembra scoraggiare la gente dall'andare in terapia o comunque sembra svalutare l'operato dei terapeuti per esempio qua ragazzi marco scrive metodo 4.0 anni di terapie e ancora non sei riuscito a farti passare ansia e attacchi di panico ti aiuto io a sconfiggere ansia e paure non ha funzionato la terapia mi devi funzionare tu cosa mi fai il miracolo sì la risposta è sì ragazzi marco ti vende il miracolo infatti qui scrive sei pronta ad accogliere miracoli nella tua vita attenzione parla al femminile quindi se sei un uomo mi dispiace per te non c'è niente da fare c'è però da dire che in un'altra sezione del blog marco bellavia scriva molto chiaramente questa cosa qua il servizio non è né un servizio terapeutico né un servizio psicologico non ci sono finalità mediche e non viene fatto alcun tipo di assistenza psicologica sia per oggetto la vendita di ebook ed eventuali sessioni di coaching pertanto persone affette da patologie e o disturbi di vario genere sono invitate a contattare psicologi o psicoterapeuti abilitati dai rispettivi ordini professionali che dire ragazzi io non ve lo consiglio ma in ogni caso non pensate che marco bellavia si sia fatto i big money con sta cafonata diciamo che ci ha provato però alla fine della fiera la sua pagina la seguono quattro gatti anche perché la grafica è poco accattivante si vede che è una cosa povera ragazzi proprio il suo sito è fatto per sbaglio a un certo punto il miracolo capita proprio a marco bellavia quando alfonso signorini lo chiama per fare il suo grande ritorno su mediaset come concorrente del grande fratello vip 2022 marco ragazzi entra nella casa con l'impegno di parlare della propria esperienza con i problemi di salute mentale ciò che non immagina è che gli si ripresenteranno proprio in diretta nazionale ma andiamo per ordine che ora ci arriviamo allora apriamo il capitolo grande fratello vip ragazzi alfonso signorini non è uno sprovveduto possiamo parlarne male ma la verità è che lui sa meglio di tutti noi messi insieme come si crei il pettegolezzo signorini infatti è il direttore della rivista di gossip chi quindi chi meglio di lui appunto sa quali siano quegli eventi scatenanti che sollevano il drama ed è per questo che ogni concorrente quest'anno viene selezionato con cura tra tutti quelli che hanno una storia difficile alle spalle cioè quest'anno al gfvip si segue lo schema x factor più la vita di un candidato è stata tragica più è idoneo alla trasmissione infatti ragazzi la verità perché a cesare quel che è di cesare penso veramente che alfonso signorini a questo giro si sia impegnato per scegliere personaggi interessanti personaggi che allora se non sono interessanti loro stessi proprio come persone quanto meno hanno alle spalle delle storie interessanti storie che vale la pena raccontare in tv che voglio dire facciamo qualche esempio nel cast quest'anno c'è Ele Noir Ferruzzi di lei noterete subito la sobrietà però Ele Noir è anche una donna transessuale ed entra nella casa proprio con l'intento di sensibilizzare su quanto le donne transessuali vengano deumanizzate ed emarginate dalla società c'è poi Giovanni Ciacci ragazzi che prima di entrare dentro la casa del grande fratello vip si ferma dinnanzi alla porta rossa ed esordisce per la prima volta questa porta verrà aperta ad una persona sieropositiva infatti ragazzi Ciacci è sieropositivo e la sua intenzione è proprio quella di usare questo spazio mediatico per sensibilizzare sul tema dell'HIV parlandone in prima serata un tema di cui ragazzi in tv si parla veramente di rado e sicuramente non se ne parla durante i reality figuriamoci al grande fratello ragazzi c'è un tema proprio tabù sia mai che ti contagi c'è poi carolina marconi il suo è un grande ritorno al grande fratello perché lei già ragazzi aveva partecipato al grande fratello ma una vita fa cioè se non sbaglio era il 3 il grande fratello 3 o il grande fratello 4 quello che mi ricordo di preciso è che io ero piccola e lei era la mia preferita al punto che sedetevi io ragazzi mi fossevo chiamare carolina perché mi piaceva lei e quindi facevo finta di essere lei speriamo che Alaska sia più intelligente di me perché io la amo ma se inizia a farsi chiamare come una concorrente del grande fratello non lo so tornando a carolina ragazzi allora la sua storia tragica non è stato l'aver partecipato al grande fratello carolina ragazzi ha avuto un tumore al seno lo ha sconfitto e purtroppo adesso le è impossibile adottare un bambino come lei e il suo compagno desiderano fare perché a quanto pare in questo mondo per chi ha avuto tumori non può adottare un bambino una roba scandalosa ragazzi che apre il dibattito a temi importanti da toccare al grande fratello come per esempio il diritto all'oblio c'è poi Giaele una tizia con una relazione non canonica perché in pratica lei e suo marito stanno insieme sei mesi l'anno nei mesi restanti cioè nei restanti sei mesi ognuno dei due fa quello che vuole lui in tutto ciò è ricco super ricco quindi vi potete immaginare quanto la sua storia sia materia di discussione all'interno della casa è anche fuori perché tu puoi anche avere l'HIV puoi essere trans puoi avere superato un tumore puoi aver fatto tutte queste cose insieme però tutto ciò non farà mai notizia quanto una che sei mesi l'anno la dà suo marito e i restanti sei mesi la dà qualcun altro insomma ragazzi quindi al grande fratello ci sono quest'anno tutta una serie di personaggi con storie così particolari ecco anche difficili in alcuni casi storie di persone con tragedie familiari alle spalle e poi ragazzi c'è Marco Bellavia Marco Bellavia come abbiamo visto ha sofferto di depressione quindi anche lui viene per sdoganare un tema importante c'è in linea di massima comunque possiamo dire che signorini a sto giro voglia sdoganare in televisione dei veri e propri argomenti tabù durante la propria trasmissione forse perché ha voluto ascoltare le critiche in base alle quali c'è troppo trash al GFV e quindi ha voluto dare una ripulita al programma cioè sognava di dare un senso a questo programma e di elevarlo un pochettino mi piace pensare questo il problema ragazzi è che comunque il livello umano dentro la casa si mantiene basso lo stesso cioè non so se mi spiego il fatto che una persona abbia avuto una vita difficile non è automaticamente una garanzia del fatto che essi ha una brava persona pure Armie Hammer ha avuto un'infanzia difficile ma tu prova a piazzarlo al grande fratello VIP è difficile che non ti scoppia lo scandalo ma anche lo stesso Marco Bellavia ragazzi cioè ok viene con una storia interessante da raccontare ma non è che sia un maestro di cultura generale attenzione infatti basta fare un giro sui sui social per scoprire che nel 2020 Marco fosse tra quelli che credevano che il covid fosse un complotto quindi Marco Bellavia due anni fa era team Angela Damondello e pur tuttavia si è dimostrato il meno peggio dentro la casa quindi immaginatevi il livello ma dopo tutte queste premesse andiamo finalmente al sodo ragazzi il grande fratello VIP inizia Marco Bellavia si avvicina sin da subito a un'altra concorrente ovvero ragazzi Pamela Prati celebre per tante cose senza altro ma ultimamente Pamela Prati è famosa grazie a suo marito Mark Caltagirone diciamo che Pamela Prati è l'unica al mondo di cui si possa dire che deve la sua fama al marito senza suonare sessisti per chi non lo sapesse e quindi non ha capito la battuta ragazzi Mark Caltagirone è il marito con cui Pamela Prati vantava nei salotti televisivi di avere una famiglia felice e che tuttavia una certa si è scoperto non esistere quindi a questo punto Pamela sta andando alla ricerca di un Mark che invece esiste infatti trova Marco tra l'altro da quanto tempo non avevamo un Marco protagonista dei video giornali comunque Pamela e Marco flertano palesemente ragazzi quindi sin da subito si instaura questo bel legame tra loro all'interno della casa nel frattempo ragazzi attenzione a questa cosa che vi sto per dire Marco bella via parla e chiacchiera con tutti sin da subito tuttavia gli altri geffini non lo prendono in simpatia sta sulle balle un pochettino a tutti e lo sparlano alle spalle e perché? perché Marco ragazzi si sforza di fare il simpaticone a detta loro cioè fa battute che non fanno ridere e questo è il grande motivo che genera l'antipatia originaria contro Marco bella via niente di grave direte voi infatti ragazzi niente di grave in teoria tra quelli che sparlano più spesso Marco bella via c'è una concorrente in particolare che non si risparmia mai cioè ragazzi lei proprio lei usa Marco bella via come argomento di conversazione per legare con gli altri geffini sin dall'inizio avete presente questo tipo di persona che è per qualche motivo riesce a farsi degli amici solamente parlando male degli altri ecco a me questa persona dà questa impressione lei ragazzi si chiama Ginevra Lamborghini e si esatto ragazzi è proprio la sorella di Elettra Elettra Lamborghini musica e il resto scompare twerk sul palco di Sanremo lei però per qualche motivo le due non si parlano cioè Elettra la odia tipo non sappiamo perché o quantomeno Ginevra dice di non sapere niente cioè di non avere mai capito perché Elettra ce l'abbia con lei ed Elettra dal canto suo non ne vuole parlare addirittura manda a Ginevra una diffida a un certo punto perché non vuole che Ginevra parli del loro rapporto e di Elettra al grande fratello benché in realtà Ginevra sia al grande fratello proprio perché vorrebbe far pace con la sorella che poi ha sbagliato programma perché quello era c'è posta per te però insomma noi non glielo diciamo a Ginevra va bene lo stesso ma torniamo al fatto che Ginevra Sparli Marco Bellavia come se non ci fosse un domani allora io vorrei pure dirvi quali siano i motivi per cui Ginevra abbia tanto scazzo contro Marco Bellavia però il motivo semplicemente non c'è cioè le sue critiche quando spettegola con gli altri Gieffini non hanno un vero e proprio punto focale capito cioè lei avanza motivi completamente astratti molto confusi cioè non si capisce veramente quale sia il suo punto ad esempio ragazzi qui vediamo che Ginevra si lamenti del fatto che Marco non abbia interesse nel conoscere gli altri e racconta il gruppetto di donzelle con cui sta amabilmente chiacchierando che nonostante lei e Marco sì ok va bene abbiano avuto qualche scambio simpatico di battute nonostante sì va bene ok abbiano parlato comunque lui non le ha fatto domande personali per conoscerla e Ginevra questa cosa la racconta come se ciò avesse dell'assurdo capite ragazzi che non volere farsi i cazzi di Ginevra Lamborghini al primo giorno di trasmissione è qualcosa di imperdonabile in un altro momento ovvero ragazzi qui Ginevra è proprio arrabbiata con Marco Bellavia ma non si capisce il perché e si mette a parlare male di lui così tutta arrabbiata capito con altri concorrenti tra cui Charlie Gnocchi Charlie Gnocchi è amico di Marco Bellavia fuori dal grande fratello VIP Ginevra ragazzi in questa circostanza a me sembra che non sappia bene manco che cosa dire per scagliarsi contro Marco però ne parla male c'è attenzione sempre alle sue spalle ovviamente e se ne esce con argomentazioni estremamente vaghe per esempio dice Marco vuole sfruttare le situazioni per emergere in modo gradevole dice proprio così ma che accusa è cioè sei al grande fratello non è che sei in vacanze è ovvio che sfrutti le situazioni per emergere in modo gradevole che devi fare emergere da pezzo di merda comunque in questa situazione per fortuna Charlie Gnocchi che come vi dicevo è amico di Marco lo difende a spada tratta e dice a Ginevra no ascolta cioè tu stai fraintendendo lui è un tipo maldestro ma è una brava persona cioè una cosa del genere le dice comunque dentro la casa ragazzi passano i giorni e Ginevra non smette di parlare male di Marco con gli altri Gieffini sempre però senza avere un motivo forte per spargere tutto questo assio tutta questa zizzania all'interno della casa cioè la sua è solo un'antipatia a pelle capito a Ginevra Marco sta sulle balle per principio poi visto che le sta così tanto sulle balle allora si ricerca i motivi tant'è vero che a un certo punto Ginevra sempre parlando in gruppo con altri Gieffini dice di Marco io non sto dicendo che lui sia una brutta persona capito non sto dicendo che sia falso sto solo dicendo che lui stia costruendo qualcosa che non è aderente a come è veramente ora sono scema io o questa è esattamente la definizione di falso non sto dicendo che è una m***a o è falso o cosa però si sta costruendo una cosa che non è aderente a quello che è lui nei giorni successivi Ginevra continua a manifestare in compagnia degli altri Gieffini questa rabbia verso Marco questo fastidio più che rabbia in maniera crescente addirittura a un certo punto parlando con questi due concorrenti Ginevra comincia a parlare di Marco Bellavia in modo verbalmente violento e ciò per un motivo ragazzi proprio grave preparatevi perché è gravissimo praticamente Marco ha osato avvicinarsi a Ginevra è un'altra Gieffina non ricordo chi mentre stavano chiacchierando cioè in pratica Ginevra e questa sua amica parlavano e Marco è arrivato e ha cercato di inserirsi nella conversazione per questo Ginevra ragazzi lo sta prendendo per i fondelli come se fosse una specie di subumano lo definisce un babbo un tappone qualunque cosa voglia dire tappone non lo so e dice a questi due concorrenti a questi due ragazzi che a lei proprio dà troppo fastidio Marco le dà fastidio persino il modo in cui cammina e addirittura si mette a imitare Marco facendone una parodia svilente ridicolizzandolo come se lui poi non le vedrà queste clip capito cioè pronto si è il grande fratello ci sono le telecamere ti guarda tutta Italia compreso il figlio di Marco ti guarderà Marco cioè non sei in camera tua vi faccio vedere questa clip ragazzi cose che non avevano senso ma non ha senso cose che non avevano senso siamo lì io e lui che stiamo parlando si capisce che una cosa è arrivata ok è arrivato è arrivato è arrivato fa così ti giuro ti giuro così sai quanto cresce da qua fa sì sì è tutto così cosa fate di gente cioè sì ma poi ma chi sei sì ma tu ma è un babbo ma poi c'è un babbo è un babbo capo di babbo io e Lenuar e Antonella e io gli stavo spiegando Antonella Antonelli tu devi rimanere qua tu devi capire che Nikita non è tua nemica primo secondo oh tappone che non è altro arriva mi so come un gatto si come cammina ti giuro non ti importa mi chiamo cosa state parlando ma io penso davvero che lui non si è interessata a Pamela la sta utilizzando per fare la la parte dell'innamorato spero che non basti che te l'ho detto lo schiccia spero veramente che Pamela non provi non cominci a provare dei sentimenti verso sto sto tampone perché guarda mi dispiace questa scena ghiacciante ragazzi non so a voi ma a me ricorda tantissimo il bullismo che ha subito dagli animello alla fazenda ve lo ricordate questa cosa di questa cosa abbiamo parlato in questo video comunque questa scenetta imbarazzante questo rancore da parte di Ginevra ripeto è dovuto semplicemente al fatto che Marco abbia tentato di inserirsi goffamente in una sua conversazione con un'amica ricordiamo ragazzi che Ginevra è quella che all'inizio parlava male di Marco perché non tentava di fare amicizia con lei quindi insomma larga ti entra e stretta ti esce giunge così la puntata del 26 settembre è la terza puntata del GF VIP e ovviamente a questo punto ci sono le nomination per chi non lo sapeste la nomination come funziona funziona che tu fai il nome di un concorrente che vorresti eliminare dici quali siano i tuoi motivi e i concorrenti che ricevono più nomination dagli altri concorrenti finiscono al televoto così durante la settimana il pubblico da casa vota chi fra questi valga la pena buttare fuori e chi invece valga la pena tenere dentro la casa del grande fratello VIP questo è il meccanismo della nomination che mi raccomando si chiama nomination è importante la pronuncia ebbene ragazzi tutti i maschi o quasi tutti i maschi nominano Marco Bellavia considerate che i maschi a questo giro possono votare solo i maschi e il loro voto a differenza di quello delle donne è segreto votano tutti nel gran segreto del confessionale perché votano tutti Marco allora ragazzi riepiloghiamo questa nomination Giovanni Ciacci lo nomina perché non crede nel suo flirt con Pamela cioè secondo lui Marco fa finta di essere interessato a Pamela solo per fare audience però in realtà non è veramente interessato a lei George che è un giovane famoso tiktoker nomina Marco perché fa battutine che non fanno ridere cioè lui vorrebbe far ridere dice George ma gnafa e questa cosa fa sospettare a George che Marco stia tentando di interpretare un personaggio finto che piaccia al pubblico la stessa cosa che diceva Ginevra inoltre George nutre anche dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti per Pamela Prati così come Ciacci Daniele quest'altro ragazzo Daniele Del Moro nomina Marco perché questa cosa che sia un mental coach non lo convince fa capire che gli sembra un truffaldino Edoardo Donna Maria nomina Marco perché non accetta che Pamela stia con uno come lui in quanto secondo Edoardo Pamela Prati dovrebbe stare con un ministro o con un astronauta non lo so io penso che Pamela dovrebbe stare con uno che esiste a Mauriz nomina Marco perché lo trova incoerente Marco entra in confessionale e la cosa divertente è che come prima cosa ragazzi dice Alfonso io qua ho legato con tutti quindi non so chi nominare guarda a sto punto nominati da solo cioè nomina Marco comunque ragazzi i concorrenti finiscono di fare le nomination e quando Alfonso Signorini fa i conti e comunica ai concorrenti chi andrà al televoto e ovviamente Marco c'è lui la prende con filosofia cioè Marco la prende con filosofia questa sua esultanza è proprio inappropriata alla circostanza quindi secondo me Marco qua cerca solo di mascherare la propria delusione tant'è vero che essendo Marco determinato a capire chi è che lo abbia nominato perché giustamente non si immagina che lo abbiano votato tutti a tappeto gioca a Daniele un brutto tiro cioè decide di bleffare e dice a Daniele durante diciamo la serata vabbè Daniele io comunque lo so che tu mi hai votato ti ho sentito mentre ti mettevi d'accordo con Edoardo per votarmi ma non c'è problema io lo capisco è solo un gioco Marco fa sta cosa per capire se effettivamente i due l'abbiano votato entrambi non l'avesse mai fatto apriti cielo è lite funesta proprio durante questa lite ragazzi Edoardo e Daniele si mettono a rinfacciare a Marco Bellavia i veri motivi per cui lo abbiano nominato entrambi a partire dal fatto che le sue battute forzate siano pesanti non fanno ridere non fanno ridere nessuno anche in questo caso Marco va finta di prenderla con filosofia questa critica esordendo subito con un eh ma io lo capisco tranquilli tranquilli ci sta capisco capisco tutto però ragazzi anche qui secondo me Marco sta solo mascherando l'esserci rimasto male insisto su questa cosa perché ci servirà più avanti perché altrimenti secondo me si sarebbe soffermato di più sull'argomento cioè gli avrebbe chiesto spiegazioni del tipo e quindi cioè mi nomini perché non ti faccio ridere cos'è ma perché che siamo a colorado insomma la mia impressione generale è che Marco voglia sempre fare quello che se ne frega però in realtà è mortificato dentro cioè lui lo sa che c'è gente che lo guarda da fuori sente questa pressione perché tra questa gente c'è pure suo figlio a cui lui tiene tanto sa che questo è il momento del suo grande riscatto in diretta nazionale quindi ci tiene a fare bella figura e quando qualcosa gli fa fare brutta figura cioè quando qualcuno lo mette in imbarazzo lui cerca di minimizzare e infatti ragazzi per quanto durante la lite Marco faccia quello che se ne frega a partire dal giorno dopo inizia a isolarsi e si vede proprio che sta male sta una pezza infatti nella diretta lo si vede Marco da solo che fa gli addominali mentre trattiene le lacrime cioè lo faccio anche io di solito di piangere mentre faccio gli addominali ma in questo caso è perché lui è triste si vede in seguito vediamo Marco seduto sulla sedia a sdraio mentre parla con Charlie quando all'improvviso si avvicina lei lei è Sara Manfuso tra le altre cose Sara Manfuso è presidente dell'associazione Io Così che si occupa di discriminazioni e violenza di genere Sara è infatti una cosiddetta survivor una donna che ha subito violenza sessuale e ciò quando aveva solamente 17 anni questa ragazzi quindi è un'altra storia strong alla quale Signorini ha deciso di dare spazio in questa edizione del grande fratello VIP comunque torniamo alla diretta Sara si avvicina a Marco mentre insomma sta sdraiato a bordo piscina che chiacchiera con Charlie e senza preamboli gli dice bruscamente che lo vuole conoscere perché fino ad ora lei è sembrato un fessacchiotto grande inizio Marco l'ultimo attento l'impressione è quella è un motivo un pessimo modo per rompere il ghiaccio un ottimo modo per rompere il cazzo Marco invece di mandarla a cagare l'ascolta educatamente e cosa ha da dirgli Sara cioè cosa gli sta andando a dire cosa vuole esattamente Sara dalla vita di Marco ebbene ragazzi Sara si siede e dice a Marco che lui si deve aprire deve aprirsi e parlare di sé deve fare emergere la propria sensibilità ma che cazzo vuoi Sara è molto pressante con Marco proprio inopportuna secondo me perché una che ti vuole conoscere dico io ti mette a tuo agio non è che arriva inizia a dirmi parlami di te apriti dimmi qualcosa su di te fammi conoscere la tua sensibilità apriti con me ti devi aprire perché sennò sembri un fesso cioè piano cioè una persona che ti vuole conoscere non si comporta così prima ti chiede come stai chi sei che fai nella vita che hai fatto in passato cosa è successo con Paola Pereg ci vai ad agio comunque perché se vieni da me e parti subito in quinta con la ramanzina sul fatto che io sia troppo introversa per stare al mondo non mi fai venire molta voglia di raccontarti i miei problemi cioè peggiori le cose se sono una persona introversa giustamente infatti ragazzi Marco scoppia in là e quindi questo ragazzi Sara in questa occasione con questa scusa di volere conoscere Marco e di volerlo aiutare a integrarsi nel gruppo inizia a dirgli una serie di cattiverie con sto tono benevolo come se volesse fare il suo bene capito cioè gli dice cattiverie per il suo bene per spronarlo a migliorare ma il suo tono così benevolo per me è una cosa troppo subdola perché giustamente mica le puoi dire guarda perché per quanto le sue parole perché per quanto le sue parole siano di cattivo gusto lei appunto si sta ponendo con gentilezza quindi che fa finisce finisce che passi tu per quello maleducato però ragazzi la verità è che togliendo tutto sto tono gentile nella pratica nel corso di questa conversazione Sara dice a Marco che lui è un fessacchiotto uno stralunato e un broccolo sentite non ti voglio di una bugia mi sembra un fessacchiotto un po' broccolo nel senso buono mi sembri sempre un po' stralunato manca solo che gli dica testa di cazzo in senso buono però senza offesa senza offesa però uno per quello se lo devi venire in faccia no? io non so più perché sono molto diretta la cosa ironica è che Charlie quando Sara si è avvicinata l'ha presentata a Marco come una persona deliziosa e sensibilissima Sara ma fuori una ragazza deliziosa sensibilissima e posso dire colta da questo capiamo quale sia il livello del GF VIP cioè se Sara in questo gruppo è quella sensibilissima gli altri ci avranno la fedina penale sporca nel giro di pochi giorni Marco si ritrova in un covo di serpi perché tutti quanti i concorrenti per qualche motivo gli parlano solo per spiegargli continuamente quanto lui non vada bene quanto lui sia sbagliato quanto dovrebbe cambiare quanto dovrebbe essere migliore ma non perché sia una brutta persona no perché è insicuro ed introverso e quindi deve cacciare stanno sempre a dirgli che non va bene non va bene non va bene e purtroppo è anche sempre più triste Marco e anche questa cosa gli viene rimproverata paradossalmente anzi più gli fanno la paternale più Marco si incubisce più si incubisce più gli altri si sentono in dovere di dirgli che l'unico modo per stare meglio è smettere di essere come è solo se lui smette di essere come è gli altri possono cominciare ad apprezzarlo sembra proprio che il messaggio sia questo in pratica ragazzi al GF VIP stanno tutti a spiegare a Marco Bellavia come stare al mondo sempre in tono paternalistico come se tutti quanti siano persone arrivate e riuscite mentre lui sia il disadattato della situazione lo fanno sentire il disadattato della situazione costantemente a partire dal suo stesso amico Charlie ragazzi che notando il suo flirt con Pamela Prati subito si mette in mezzo per spiegare a Marco che a Pamela non piacerà mai perché si concia male una come Pamela non starà mai con uno come lui e così ragazzi per aiutare il suo amico Marco Charlie gli fa la piega orribile tra l'altro mille volte meglio l'effetto sbarazzino non ti seccare Charlie a Marco tutto gli puoi dire ma non che non sia un bell'uomo cioè guardati il tuo che altrimenti con ste acconciature agghiaccianti mi boicotti i belprati ma andiamo a un'altra clip risalente sempre agli stessi giorni anche qui vediamo Charlie impegnato a dare lezioni di vita a Marco spalleggiato da Vilma Goic cioè lei Vilma è una cantante tuttavia la sua presenza in questa situazione stona Vilma dice a Marco che deve aprirsi di più che si deve fare conoscere le stesse cose che gli ripetono tutti perché l'unica cosa che ha fatto vedere fino ad ora dentro il GF VIP è che sia un cretino ti posso dire una cosa tu fino adesso non hai ancora detto chi sei hai solo fatto vedere che sei cretino ma perché non me l'hanno chiesto non me l'hanno chiesto Marco allora spiega a Vilma e a Charlie che è pure là che lui purtroppo non si sente bene non sta bene all'inizio quando è arrivato al GF VIP si è divertito però poi è successa sta cosa che l'hanno nominato tutti perché alla fine l'ha scoperto Marco che l'abbiano nominato tutti e si è buttato giù però dice Marco mi riprenderò solo che per poter stare bene con gli altri devo prima aiutare me stesso è per questo che mi chiudo nonostante Marco stia comunque dicendo una cosa brutta si sforza di formulare il proprio discorso usando una retorica positiva e propositiva dicendo appunto so che mi riprenderò adesso mi riprendo però comunque nonostante ciò non trova ascolto da parte di Vilma e Charlie anzi trova solo sbuffi occhi al cielo e altre critiche ragazzi non devi essere così devi essere in quest'altro modo devi fare così devi essere più naturale a un certo punto addirittura ragazzi Charlie si mette proprio a fargli una ramanzina rimproverandolo di essere una persona troppo istintiva con i nostri amici comuni c'è sempre questa costanza che il tuo istinto ti ha provocato dei guai dico io le cose sono due o sono una persona troppo istintiva o non sono abbastanza naturale non mi pare che le due cose siano compatibili ti vogliono un naturale il tuo istinto provocato dei guai ti vogliono un naturale il tuo istinto provocato dei guai ecco come portare una persona a sentirsi inadeguata a qualunque cosa faccia tra l'altro qua Charlie gli ricorda pure che la colpa della sua disfatta televisiva sia stata legata proprio al suo essere troppo istintivo anche lavorativi perché tu eri un mito della televisione poi pian piano la tua parabola è scesa per via del tuo istinto quindi probabilmente lui sa non sappiamo cosa sa ma sa comunque Vilma a questo punto si intromette nel discorso e supportando ciò che dice Charlie dice una frase a Marco che fa schifo ragazzi una cosa spaventosa gli dice ve la faccio direttamente sentire non ti sei mai posto il problema che sei proprio tu la causa dei tuoi mali ma quello me lo sono sempre posto allora partiamo da un presupposto non si dice in generale non si dice a maggior ragione però se parliamo con una persona che potrebbe potenzialmente essere depressa come nel caso di Marco perché ricordiamo che lui in passato ha sofferto di depressione quindi questa tristezza cronica potrebbe essere probabilmente cioè plausibilmente una ricaduta o potrebbe anticipare una ricaduta ora pensate a come vi sentireste se in un momento in cui siete giù vi sfogaste con qualcuno di cui vi fidate e questo qualcuno vi rispondesse guarda la causa del problema che ti fa stare male sei tu e solo tu cioè è come sparare sulla croce rossa ancora peggio è quando questa frase viene detta a chi soffre di depressione perché chi soffre di depressione è probabile che si senta già un fallito di suo quindi non c'è bisogno di mettere il dito nella piaga non è sbagliata come cosa è proprio pericolosa è una frase quella che ha detto Vilma che risuonerà nella testa di una persona depressa ogni qual volta si sentirà di nuovo un fallimento io lo so ragazzi che non è facile avere a che fare con una persona depressa è probabilmente chi ha un parente un amico affetto da depressione lo sa benissimo quanto umanamente a un certo punto possa venir voglia di dire questa frase di dire guarda sei tu la causa dei tuoi mali perché perché ciò che si vede dall'esterno è una persona che continua a lamentarsi di se stesso e della propria vita senza fare mai nulla per cambiare né se stesso e né la propria vita e qualsiasi consiglio tu provi a dargli per aiutarlo il depresso te lo butterà giù con un misero è inutile non sono capace no ma non me la sento non lo farò cioè è come se il depresso avessi un problema per ogni soluzione quindi a un certo punto snerva ed è umano che proprio perché lo si vuole spronare possa salire la rabbia a un certo punto cioè ciò che provi è proprio volergli dare una bella scossa però ragazzi no cioè bisogna trattenere l'istinto c'è poco da fare perché la verità è che non è come sembra cioè dall'altra parte non c'è veramente una persona pigra che si lamenta senza fare niente cioè c'è semplicemente una persona che ha paura di fallire di nuovo e per questo non agisce per cambiare le cose la possiamo vedere come una fobia io per esempio non salgo sull'aereo perché non posso precipitare da un aereo se non viaggio con l'aereo allo stesso modo il depresso non prova per esempio ragazzi la butto lì a cercare lavoro perché non può fallire nella sua ricerca se non ci prova non può fallire se non si mette in gioco in generale quindi la persona depressa non è che non faccia niente per cambiare le cose la persona depressa attua un evitamento evita il fallimento perché lo teme quindi quando siamo di fronte a una persona che soffre così tanto l'unica cosa che ha senso fare è ascoltarla e mostrarle comprensione supporto non farla sentire sola per tutto il resto c'è lo psicanalista nessuno è tenuto a dispensare consigli di vita perché dare consigli a una persona depressa per cambiare la sua vita è inutile cioè o meglio magari no però in molti momenti può essere fastidioso ecco quantomeno è utile chiedere il permesso hai bisogno che io ti dia dei consigli vuoi che ti dia un consiglio per tu poter star meglio perché altrimenti ripeto può anche solamente urtare perché la persona depressa guarda chi gli dispensa consigli e dice è facile è facile per te che non lo so ti riesce tutto quello che fai quindi insomma tante grazie per i consigli ma non grazie comunque ragazzi le parole di Vilma cioè appunto hai mai pensato che magari non sia tu la causa di tutti i tuoi mali suscitano in Marco una risata nervosa che ancora una volta secondo me è l'ennesimo modo per mascherare l'imbarazzo al che però di fronte a questa risata nervosa Vilma si agita e comincia a urlare contro Marco ma che cazzo ridi e lo accusa di avere qualche rotella fuori posto no guardate questa scena no ma comunque se Marco ha qualche rotella fuori posto lei direttamente ha perso la ruota panoramica nonostante Vilma si meriti a questo punto solo che Marco le sputi nel caffè di nascosto poco dopo quando lei si sfoga su quanto le manchi sua figlia e su quanto le manchi essere chiamata mamma Marco si rivolge a lei e la chiama mamma dopodichè l'abbraccia scoppiando pure in lacrime e in tutto ciò Vilma pare pure infastidita da questo gesto carino di Marco capito c'è insensibilità appalate qua vendesi insensibilità che ne abbiamo troppa in eccesso a me manca per esempio il fatto di essere chiamata mamma mamma no non mi lascio in generale possiamo notare che i vari concorrenti accusino continuamente Marco di non farsi conoscere di non aprirsi però poi quando lo fa quando si apre puntualmente i suoi interlocutori gli rispondono dicendogli cose brutte aggredendolo verbalmente o mostrandosi infastiditi da lui per esempio ragazzi facciamo qualche esempio specifico allora in quest'altra clip vediamo Marco che dopo aver tentato di raccontare a Charlie Gnocchi la propria storia il proprio passato viene ricoperto di insulti e perché? perché Marco dice una frase che fa scazzare Charlie cioè non sono venuto al GF VIP per giocare mi zica ragazzi Marco dice sta cosa e Charlie praticamente non capisce più niente e manco gli aveste detto fai schifo Charlie perde le staff e dice a Marco allora vai a fare in culo non me ne frega un c***o cosa sei venuto a fare? psicanalisi vattene in ospedale gli dice cioè eh nel mentre che Charlie lo assale con questo flusso di insulti Marco fa un discorso che purtroppo ragazzi purtroppo viene coperto da ste urla insensate di Charlie perché cioè perché dico purtroppo perché è un discorso bellissimo importantissimo che veramente potrebbe elevare il livello del GF VIP e dare un senso a questa trasmissione siccome si sente poco dalla clip che comunque tra poco andremo a vedere vi leggo le parole di Marco le parole che Marco pronuncia sotto le urla di Charlie sono venuto con l'idea di raccontare la mia storia per metterla a disposizione delle persone che stanno male e magari indirettamente anche solo una persona può ispirarsi e farsi aiutare meglio di quanto mi sono aiutato io peccato ragazzi peccato perché come vi dicevo purtroppo questo discorso viene completamente eclissato dall'aggressione verbale di Charlie nonché dalle urla di un'altra concorrente che si mischia tanto per dire la sua perché lei deve sempre andare contro Marco poi parleremo anche di lei tranquilli perché è proprio una delle peggiori vi faccio vedere questa clip a questo punto ragazzi è veramente troppo per Marco ci resta male ma male ma male perché pure il suo amico gli si è rivoltato contro e per quanto Marco come sempre sul momento minimizzi finga di prenderla a ridere in realtà la cosa gli resta qua tant'è vero che piange per tutta la notte ma i suoi compagni di stanza questa cosa che lui pianga di notte insomma non la pigliano tanto bene dà fastidio uno dei suoi compagni di stanza ragazzi è questo qui Giovanni Ciacci ne parlavamo all'inizio il primo siero positivo ad aprire la porta del grande fratello Vip Giovanni Ciacci la mattina del 29 settembre si alza e va in cucina dove trova altri due concorrenti che stanno facendo colazione la prima è Francesca Carmela Antonaci in arte Gegia Gegia è un'attrice comica ma è anche una psicologa e infatti laureata in psicologia è iscritta all'albo degli psicologi quindi direte voi forse almeno lei potrà fare qualcosa per aiutare Marco essendo una psicologa la seconda persona che sta facendo colazione è Luca Salatino ex tronista di uomini e donne ora ragazzi Ciacci entra in cucina e dice a Gegia e Luca oh piccio Marco ha pianto tutta la notte ancora è a letto che piange la cosa che è però stona in queste parole è il fatto che il suo tono non sia preoccupato cioè se senti uno che piange tutta la notte secondo me la cosa più ovvia è preoccuparsi cioè la notte è lunga se piangi tutta la notte o sei un neonato con le coliche oppure hai bisogno di aiuto urgentemente invece ragazzi il sottotesto delle parole di Ciacci è palesemente oh piccio che due palle questo ha pianto tutta la notte ma ha rovinato il sonno è tutto molto strano ragazzi anche perché cioè Ciacci sentiva Marco piangere quindi era sveglio però non gli diceva nulla cioè non si è alzato per provare a consolarlo per capire cosa avesse cioè manco dovesse andare al lavoro il giorno dopo Gegia risponde a Ciacci facendo una veloce diagnosi a Marco infatti dice guarda sicuramente Marco ha un esaurimento nervoso quindi questo ragazzi che significa significa che Gegia psicologa sta riconoscendo che Marco abbia un problema grave un disturbo cioè un esaurimento nervoso non è una cosa da prendere sotto gamba ricordiamo che a Johnny Depp durante un esaurimento nervoso gli è salito Pollock e si è messo a dipingere i muri di casa col sangue e infatti ragazzi Luca si rivolge a Gegia e sapendo che lei sia una psicologa per l'appunto le risponde guarda allora aiutalo tu la risposta di Gegia è esemplare proprio un esempio di spreggevolezza ve la faccio direttamente sentire nel frattempo nel frattempo che in cucina succede ciò Marco si alza dal letto ciò però non implica che smetta di piangere infatti si siede su una sedia piazzata nel corridoio e continua a piangere a un certo punto si sveglia anche George il giovane tiktoker che accorgendosi di Marco va subito a confortarlo insomma Marco a una certa ragazzi si ricompone e ben presto appena si ripiglia si mette a parlare con gli altri compagni e cerca di spiegare loro soprattutto ai compagni di stanza perché abbia passato la notte a piangere la mia impressione è che ancora una volta Marco tenti di minimizzare il problema per non gravare troppo sugli altri perché spiega che lui abbia semplicemente pianto di gioia durante la notte addirittura e a che cosa era dovuta tutta questa gioia e niente praticamente ha avuto una crisi mistica cioè Marco cerca di convincere i compagni di stanza che non abbia pianto perché Charlie poco prima gli aveva detto vattene in ospedale vaffanculo ma perché stava tipo vedendo la Madonna non lo so una cosa simile è una crisi mistica va bene mentre Marco parla di questa cosa interviene Geggia sempre la psicologa ragazzi che comincia a sgridare Marco tutta arrabbiata accusandolo di avere pianto di notte impedendole di dormire a causa dei suoi spasmi e lo rimprovera perché gli dice io l'ho capito il tuo giochetto l'ho capito benissimo tu cercavi di parlare con me mentre piangevi e siccome io ti ignoravo allora ti muovevi nel letto per attirare la mia attenzione adesso sai che c'è adesso te ne vai a quel paese fuori dalle paese gli dice anche che è matto così a questo flusso di insulti Marco reagisce con un sorriso condiscendente cioè annuisce proprio come un cane bastonato una scena pietosa ragazzi ma sei matto ma sei matto è matto un po' sì però non è che io qualunque cosa sia ti dispiace appunto e saltava per farmi svegliare a me perché parlava io non gli davo letta allora ho sguardo a fare tutun 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 come stanotte no stanotte senti c'è stata una registrazione Marco io ti ho preso stanotte mi sono alzato ho fatto un po' di casino ti ho preso con tanta gentilezza perché non volevi dormire qua ti ho fatto dormire qua mo te va a quel paese a questo punto ce l'ho io la crisi mistica ragazzi vedo le madonne che cadono se Marco bella via prima di entrare nella casa nutriva dubbi verso gli psicologi sicuramente ora dubbi non è a più dopo questo episodio ne abbiamo un altro ragazzi abbiamo Carolina che si mette anche lei a fare la morale a Marco spiegandogli come si stia al mondo e il tutto mentre in sottofondo Geggia le parla sopra dicendo le cose tipo Carolina guarda che non ti ascolta tanto Carolina lascialo stare guarda che non ti ti sta prendendo in giro non ti sente se ne frega di quello che dici sta facendo finta di ascoltarti smetti Geggia ragazzi incita Carolina a non parlare con Marco praticamente le vuole dire ignoralo perché provare ad aiutarlo è solo una perdita di tempo il tutto davanti a lui ma com'è questo? insieme che chiaramente non è vero non lo so sì questo è Charlie adesso ti stava dicendo Charlie Charlie ti stava dicendo delle cose e stava perdendo del suo tempo perché allora a quanto pare mi ero perso una cosa cioè che in questa stessa occasione anche Carolina oltre a fare la morale a Marco che vabbè su questo si può anche sorvolare però a parte questo ha anche detto qualcosa di molto molto brutto a Marco ve lo faccio sentire comunque ragazzi se state pensando di iniziare una terapia sappiate che non sono tutti geggia i psicoterapeuti penso che possiamo testimoniarlo in tantissimi che non siano tutti così anzi vi pregherei di parlarne nei commenti delle vostre esperienze con la terapia se vi va perché può essere utile a chi insomma non c'ha il coraggio di di buttarsi dico può capitare purtroppo di incontrare un professionista a cui hanno regalato la laurea se vi dovesse succedere cambiate subito studio è una seccatura lo so perché comunque il tempo che capisci che stai parlando con uno che è empatico quanto un tostapane già magari gli hai dato soldi gli hai raccontato tre quarti della tua vita però fidatevi meglio perdere che straperdere comunque andiamo avanti ragazzi allora è il 30 settembre il 30 settembre signorini apre la quarta puntata del grande fratello VIP uno dei primi argomenti toccati in puntata ovviamente ragazzi è il flirt tra Marco Bellavia e Pamela Prati e quindi Alfonso chiede a Marco ah Marco ma che intenzioni hai con Pamela perché dentro la casa nessuno crede che tu sia sincero con lei è un momento chiave ragazzi perché Marco risponde a signorini che in questo momento sta cercando di allontanarsi da Pamela perché purtroppo non sta bene non si sente bene e dice addirittura Alfonso io non mi sento abbastanza equilibrato per poterle stare vicino in questo momento perché sono almeno 4-5 giorni che non dormo quindi insomma sto rimandando la relazione al prossimo appello a questa delicata esternazione di un disagio emotivo profondo da parte di Marco i concorrenti del GF VIP decidono di reagire col culo per esempio ragazzi Sara l'attivista contro le discriminazioni la violenza ve la ricordate Broccolo dice a Marco Marco tu hai detto che non sei equilibrato è una cosa grossa questa te ne rendi conto per avvicinarti a una donna devi essere equilibrato Marco ah ah non ho capito il punto Marco ha propriamente detto che non si avvicina a Pamela per questo quindi di grazia Sara ci spieghi meglio il senso di questa tua presa di parola perché non tacere ogni tanto perché secondo me se tacevi non cambiava niente anzi evitavi di far sentire Marco meno inadeguato di quanto lui stesso non abbia detto di sentirsi già è una risposta un po' non so come dire un po' da broccola nel senso buono comunque Sara ragazzi non è certo l'unica a reagire come una broccola di fronte al disagio di Marco infatti mentre i signorini si fanno i fatti suoi non so forse c'era la pubblicità in quel momento due concorrenti parlottano tra loro e queste due concorrenti sono Ele Noir e Patrizia Ele Noir è quella di cui abbiamo parlato all'inizio mentre Patrizia Rossetti e allora praticamente Patrizia Rossetti ragazzi mentre Marco faceva bim bum bam lei faceva le televendite a proposito di televendite questa maglietta è di pampling se volete una maglietta simpatica come questa andate su pampling mi raccomando ragazzi usate il codice babilonia perché usando il codice babilonia vi pigliate pure un paio di calze gratis come questa insomma scelta vostra quelle che vi piacciono quelle che volete tornando a Patrizia e Ele Noir che parlottano di Marco vi faccio sentire ragazzi l'uscita infelice di Ele Noir ma sei proprio ignorante sei proprio ignorante sei proprio scemmo no sei proprio scemmo proprio non ignorante che peggio se c'hai dei problemi stai a casa tua stai là vai alla neuro deliri esatto no Iris no cioè a tutto c'è un limite trattieni allora ragazzi non esiste Ele Noir è entrata al GF VIP per portare il tema dell'emarginazione delle donne trans cioè lei per come è entrata si è messa a lamentare quanto la vita delle donne trans sia oggetto di discriminazione e soprattutto di emarginazione vi faccio sentire le esatte parole che ha pronunciato Ele Noir dopo il suo ingresso nella casa così ci rinfreschiamo la memoria la vita delle trans in generale è una vita molto difficile perché le trans sono completamente disumanizzate a livello sociale a livello lavorativo non hanno un'integrazione perché purtroppo la società non permette un'integrazione per vari pregiudizi quindi ragazzi Ele Noir parla precisamente della difficoltà di integrarsi nella società per una donna transgender e si tratta quindi proprio del tema dell'emarginazione sociale del diverso si tratta della società che impedisce a determinate persone di integrarsi ostacolandole in diversi modi modi che possono essere non lo so non dargli un posto di lavoro non rappresentarle in televisione ridicolizzando tale diversità perché o sei come noi oppure stai lontano da noi ecco ragazzi da una persona così consapevole come Ele Noir che vive sulla propria pelle il disagio dell'emarginazione sociale non mi aspetto di sentire dire che una persona con problemi di depressione come Marco debba starsene a casa sua non mi aspetto di sentir dire che al GF VIP non dovrebbe andare una persona con problemi di salute mentale perché il suo posto è alla neuro delirio perché questo significa emarginare questo significa o come noi oppure lontano da noi questo significa Marco mi dispiace quelli come te non possono avere qualcuno che li rappresenti in televisione non puoi stare con noi perché non sei come noi ti vogliamo e attenzione ragazzi perché non è mica finita qua la conversazione tra Ele Noir e Patrizia no sentite ragazzi fermi fermi fermate tutto ah no non vieni qua per fare psicanalisi gratis regia per favore possiamo rivedere quella clip dell'inizio allora registrando ragazzi ho fatto un errore cioè io pensavo che a dire queste cose fosse stata la stessa Patrizia quindi pensavo di aver trovato uno strumento per asfaltarla incredibile però in realtà no in realtà è stata un'altra è stata Cristina però il succo rimane Marco viene accusato delle stesse cose che fanno anche loro stessi i concorrenti cercare supporto all'interno del gruppo cioè lui viene accusato di aver cercato di scroccare una psicanalisi gratis quando è esattamente la prima cosa che ha fatto questa Cristina e a lei nessuno è andata a dire viene a fare psicanalisi gratis capito viene a scroccare sedute di mental coach a gratis pronto si salve parlo con la signora Enza Coer ah non c'è la signora Coerenza e quando la trovo con due ansie allora ma andiamo avanti a questo punto è il momento delle nomination ragazzi questa volta le nomination si svolgono intorno a un tavolo tutti possono votare tutti e ci si dice le cose in faccia indovinate chi decidono di nominare quasi tutti ovviamente ragazzi Marco Bellavia manco a dirlo riepilogo delle nomination Giaele nomina Marco perché lo ha visto troppo giù in questi giorni che come dire ti lascio perché ti amo troppo stessa logica inappuntabile Attilio nomina Marco perché non riesce a integrarsi e poverino lo vede soffrire troppo c'è incredibile come si fanno tutti i cazzi propri durante la settimana quando Marco piange però al momento delle nomination tutti si preoccupano della sua salute mentale della sua sofferenza Giorgio nomina Marco perché già lo aveva nominato la settimana prima Marco non era interessato del perché quindi lo rinomina ci sta a questo punto Marco Bellavia ragazzi ha tipo le lacrime agli occhi e quindi prende la parola è un altro momento chiave attenzione Marco spiega al gruppo che è vero non sta bene se ne sono accorti tutti interessante ma non è che non sta bene perché se ne voglia andare lui dentro la casa ci vuole restare solo che si sente solo senza punti di riferimento infatti ragazzi Marco dice io fuori dalla casa quanto meno c'ho mio figlio qui non ho nessuno quindi ho bisogno di supporto ho bisogno di aiuto Marco ragazzi fa un discorso molto toccante con cui chiede aiuto letteralmente aiuto agli altri concorrenti dice io sto male ma so che anche se da solo non ce la posso fare insieme a voi ce la posso fare se voi mi aiutate a sentirmi meglio so che ce la farò so che starò veramente meglio vi faccio sentire il discorso di Marco Bellavia durante le nomination ragazzi entrando qua dentro mi ha trasformato veramente da come ero prima ah che mancandomi proprio delle cose dei punti di riferimento fondamentali compreso mio figlio non ho dei punti di riferimento però conto di riuscire a portarli avanti se mi date una mano tutti quanti per tutta risposta Pamela Prati lo nomina proprio Pamela Prati ragazzi l'unica persona da cui Marco probabilmente non se lo poteva aspettare ma tranquilli perché anche lei lo fa per il suo bene cioè la sua motivazione è che lo vede soffrire troppo dice secondo me a Marco manca suo figlio secondo me deve tornarsene da suo figlio quindi in sostanza ragazzi gli vuole fare una cortesia Marco ragazzi come al suo solito cerca di prenderla con filosofia cerca di giustificare Pamela infatti si mette si mette subito a mettere la pezza e dire no ma io la capisco la capisco perfettamente forse me lo dovevo aspettare in fondo che lei mi avrebbe nominato perché noi due siamo simili siamo persone simili abbiamo entrambi problemi da risolvere e come me anche Pamela dice Marco ogni tanto fa delle cose senza pensarci troppo in modo irrazionale e questa è sicuramente una cosa che ha fatto in modo poco lucido di fronte a queste parole tanto graziose Pamela cambia faccia e diventa aggressiva con Marco e si mette a sgridarlo dicendogli che non è assolutamente vero lei non è affatto simile a lui cioè indignatissima da questa accusa oltraggiosa di essere simile a lui che schifo manco gli avesse detto non lo so sei simile a un cato di merda e sempre con questo tono tutto indignato ragazzi Pamela dice a Marco io non gli ho i problemi come ce li hai tu immagino che parla per te immagino che è assurdo per come sento ha fatto bene a votare ma c'ho scambiato le parole cosa sente questa reazione di Pamela fa capire che si sia creata all'interno della casa una situazione in cui c'è un branco di bulli contro Marco per cui essere associati a Marco fa paura perché si teme di essere giudicati e allontanati dal gruppo Marco ragazzi incassa anche questo colpo anche Pamela gli ha voltato le spalle e a questo punto si vede proprio dalla sua faccia che è sempre più abbattuto ma il gioco deve andare avanti e la nomination prosegue Cristina nomina Marco perché non riesce a interagire con lui Ciacci nomina Marco perché lo ha svegliato alle 5 e mezzo del mattino piangendo e lui ha bisogno di dormire ma che fa scherziamo io voto Marco perché mi ha svegliato stamattina alle 5 e mezzo piangendo e io ho un bisogno di dormire Sara nomina Marco perché è un broccolo Edoardo nomina Marco perché non gli è simpatico Amauris nomina Marco lui parla poco infine ragazzi Marco nomina Giovanni Ciacci che ricordiamo lo ha nominato a sua volta perché Marco ha usato piangere alle 5 e mezzo del mattino svegliandolo questa è stata la grande motivazione di Ciacci per nominare Marco anche abbastanza crudele se ci fate caso invece la motivazione per cui Marco nomina Ciacci è che è sicuro che il pubblico non lo farà uscire dalla casa perché Ciacci dice Marco ha una storia unica da raccontare in televisione quindi non volendo fare uno sgarbo a nessuno Marco sceglie di nominare chi è sicuro che non uscirà col televoto cioè chi è sicuro che il pubblico non manderà a casa Ciacci ragazzi sentendo ciò si volta sgarbatissimo contro Marco e senza manco farlo finire di parlare lo sgrida dicendogli non cominciare perché la mia storia non è unica e quando la nomination finisce i concorrenti tornano nella casa Marco insegue Ciacci per spiegarsi meglio ma questi gli urla contro che si deve vergognare perché è colpa sua e della gente come lui se esistono ancora le discriminazioni ma dovrà il tempo per spiegarla sempre meglio ma non voglio assolutamente che la comunicazione sia perfetta perché è chiaro che io se la racconto io sbaglio per fuori io non ci voglio nemmeno più parola se la racconto levate racconto chiaramente per favore fuori poi ne riparliamo dopo quando c'è tutto il gruppo che hanno sentito tutti se ti sei risultato offeso e ho sbagliato qualche cosa ti chiedo perdono ti chiedo di perdonare ma io non penso di aver detto una cosa così grave ti devi vergognare ti devi vergognare per quello che hai detto perché con la gente perché è grazie alla gente come te che ancora c'è discriminazione ma c'entro io cosa ho fatto ho detto semplicemente che siccome volevo che tu stessi ancora qua dentro io ho mi sembra strano che tu stai facendo una scena che non mi sembra assolutamente corretta nei confronti miei ma perché cosa ho fatto cosa ho fatto perché ho parlato male di te vergognati vergognati disse quello che invece di aiutare Marco che piange in piena notte lo nomina perché gli dà fastidio la sofferenza altrui anche qui rip coerenza chiediamo sensibilità agli altri ma noi non ne vogliamo elargire a questo punto che succede ragazzi allora non ho capito bene quando se il giorno dopo oppure più probabile alla fine di questa stessa puntata del gfvip un gruppo di gfini si mette insieme si mette a sparlare Marco tra questi c'è Sara che dice eh ma è lui che non vuole essere aiutato cos'è così cioè ha letteralmente chiesto di essere aiutato vabbè lasciamo stare proprio durante questa chiacchierata Luca finalmente ragazzi dice quello che va detto sentite e godete però regà pure sta cosa qui cioè adesso stiamo no però se una persona non sta bene non è che sta sbranato capito però l'ha detto anche lui però se una persona non la riesce ad aiutare in un contesto si trae no però ne manco bello punto a ricerca no sono d'accordo con te ieri c'è questa cosa il pianto stava a pianto no quello è stato bruttissimo hai ragione ma lei può dire una persona stava a pianto è bello dire una persona a pianto se lo muo fanno che c'è una persona stava a cragno nel frattempo un'altra concorrente di cui ancora non abbiamo parlato decide finalmente di tendere una mano a Marco lei è Antonella Fiordilisi Antonella si avvicina a Marco chiedendogli cosa abbia chiedendogli se il suo malessere sia legato alla situazione dentro la casa o se abbia problemi esterni alla casa al che ragazzi Marco si confida con Antonella e scoppia in lacrime con lei le dice che spera che tutti lo nominino la settimana successiva così se ne torna a casa e che tuttavia gli dispiace lasciare il grande fratello perché lui vorrebbe tanto che in tv si parlasse di salute mentale vorrebbe far sapere a chi sta male come lui a chi lo guarda da casa che si può guarire dal dolore psicologico e non solo da quello fisico quindi lasciare il GF VIP significherebbe arrendersi significherebbe rinunciare a questo importante obiettivo per Marco inoltre ragazzi Marco dice ad Antonella tu sei così giovane vorrei tanto che i giovani come te avessero gli strumenti e la consapevolezza che purtroppo io da giovane non ho avuto perché se li avessi avuti so che non mi sarei ridotto a 60 anni così Antonella ragazzi lo ascolta lo conforta gli sta vicino senza giudicarlo e soprattutto senza dispensargli i consigli di vita e fa tutto quello che nessun altro ha mai fatto per Marco dentro la casa ma purtroppo questo momento prezioso viene rovinato da Geggia che passa e dice a Marco se stai male questo non è il posto per te Antonella per fortuna ragazzi fa quello che Marco non riesce a fare mai cioè reagisce e dice a Geggia di chiudere quella fogna di bocca però non glielo dice così lei è educata lei dice di smetterla perché non è giusto che tutti continuino ad aggredire Marco ma in tutto ciò Ginevra la sorella Lamborghini che fine ha fatto Ginevra ragazzi sempre uguale cioè lei nel frattempo se ne sta a fare branco e spesso ha spese di Marco cioè parlando male di lui e a un certo punto la fa definitivamente fuori dal vaso Ginevra uno dei GFini infatti durante una chiacchierata con Ginevra e altri esce fuori dal coro e dice sentite però non è giusto che trattiamo tutti male Marco come stiamo facendo perché questa cosa che stiamo facendo è bullismo anche ragazzi Ginevra Lamborghini accusa Marco di una cosa gravissima che da quanto ne sappiamo perché ci sono le telecamere accese H24 non risulta manco essere vera dice che Marco tocca che allunga le mani ma quando ma dove giustamente tutti gli altri la guardano tipo a dire eh qualche Ginevra dice vabbè certo non mi tocca così le tè però però cosa cosa ti tocca boh ragazzi non lo dice la mia teoria è che Ginevra stia amplificando il fatto che Marco tocchi l'interlocutore mentre parla cioè lui effettivamente è una di quelle persone cioè fa questa cosa fastidiosa di toccare gli altri mentre parla l'avevo notata pure io sta cosa ragazzi sicuramente può urtare i nervi saldi però di sicuro non è violenza sessuale come può essere il toccare parti intime tuttavia il modo in cui Ginevra formula la frase sembra insinuare proprio questo che Marco tocchi parti intime non al fatto che ti tocchi il braccio mentre ti parla vabbè comunque ragazzi dopo avere detto questa cosa che Marco tocca in modo molto vago lei è sempre molto vaga quando accusa Marco Ginevra pronuncia una frase imperdonabile cioè dice lui tocca quindi uno come lui se lo merita il bullismo vi faccio vedere tutta questa clip ma poverino facciamo atti di bullismo poi dai ma non ci fa con te a me regà me tocca me tocca quindi mi atti di bullismo sinceramente me tocca me tocca eh ma con Nikita uguale sì sì con Nikita uguale ovvio che non fa questo però ma quindi ti meriti pure ti è tranquillizzato te lo meriti con questo andazzo molto tranquillo arriva giorno 1 ottobre 2022 l'1 ottobre Marco si sveglia va in cucina e trova Ciacci che prepara la colazione Marco vorrebbe fare pace con lui quindi tenta di rompere il ghiaccio chiedendogli come hai dormito stanotte penso che sia una frecciatina riferita al motivo per cui Ciacci l'ha nominato ragazzi dice che Marco non l'abbia fatto dormire qualche notte fa qualche notte prima perché piangeva Ciacci gli risponde male e se ne va guardate Marco resta da solo fa colazione da solo e lo vediamo completamente solo tutto il giorno da solo sul divano da solo in soggiorno a gironzolare e piange piange sempre piange ma nessuno gli si avvicina nessuno va a confortarlo cioè viene isolato come se fosse radioattivo e a un certo punto si butta per terra nel soggiorno tra i singhiozzi cioè singhiozza con la faccia sulla moquette ed è a questo punto che Ciacci insieme a un altro concorrente di cui non si vede la faccia passa vicino a Marco e va lo ignora con un'indifferenza che non lo so cioè per come sono fatta io mi farebbe stare più male di qualsiasi insulto cioè preferirei mi insultassero e mi dicessero guarda alzati che sembri una pezza è così che l'1 ottobre 2022 Marco Bellavia entra in confessionale o meglio ragazzi Charlie Gnocchi lo spinge dentro il confessionale e comunica in lacrime che lascia la casa del grande fratello Vip in seguito a questo sfogo Marco ragazzi abbandona la casa e improvvisamente ora che Marco se ne è andato e non ritorna più guarda caso diventano tutti bravi e comprensivi per esempio Ginevra Lamborghini si rende conto che l'hanno trattato male e che poverino Marco andava aiutato giustamente ragazzi ora che nessuno deve più fare niente per Marco nessuno deve più sacrificare il proprio tempo per Marco e la propria e la propria allegria per stargli vicino ora possono permettersi di volergli bene perché non incide più sulle loro giornate Marco perché alla fine questo ragazzi è il motivo per cui secondo me sono stati tutti così scontrosi con Marco questo è il motivo per cui sembrava che Marco desse fastidio a tutti cioè immaginatevi voi in questa situazione allora tu passo dal voi al tu così per creare più feeling tu sei al grande fratello vip cosa pensi quando entri al grande fratello vip che ti andrai a divertire che farai festazza ma improvvisamente uno dei concorrenti dimostra di stare male soffre allora che succede succede che una vocina dentro di te chiamata coscienza ti dice che la cosa giusta sia andare da lui e stargli vicino ascoltare questa persona e confortarla però allo stesso tempo la tua pancia ti dice sorema sei al grande fratello cazzo tene quando ti ricapita rilassa ti diverti ti lascialo perdere in sostanza non vuoi che la sofferenza di qualcun altro rovini l'esperienza a te ti sembra anche una cosa un po' ingiusta in parte quindi che fai siccome vivi insomma l'essere dovuto al fatto che la tua testa e la tua pancia siano disallineate cioè la tua coscienza e il tuo cuore ecco non siano d'accordo allora devi trovare una soluzione per riportare l'equilibrio per ripristinare il tuo equilibrio ed ecco la soluzione ragazzi trovare un motivo per credere Marco una brutta persona e il gioco è fatto zittisci la tua coscienza se è lui che è una brutta persona non si merita il tuo aiuto a posto cioè ti puoi divertire ti puoi rilassare senza sentirti in colpa senza la tua coscienza che ti che ti infastidisce per esempio per esempio se Marco è uno che discrimina chi ha l'HIV e io lotto contro la discriminazione delle persone sieropositive non mi sento più in dovere di aiutarlo perché è il mio nemico se Marco è uno che tocca è meglio non aiutarlo per me perché mettiche mentre gli parlo allunga le mani se Marco è la causa di tutti i suoi mali non posso fare niente per aiutarlo se è lui che non vuole essere aiutato non posso fare niente per aiutarlo e se non posso fare niente per aiutarlo cosa ci perdo tempo a fare è per questo ragazzi che nel momento in cui Marco non è più nella casa è molto più facile per i GFini percepire la sua sofferenza e accettarla riconoscerla validarla perché nessuno si sente più in dovere di fare qualcosa per lui quindi non hanno più questa dissonanza cognitiva da risolvere per sentirsi a posto con la coscienza c'è da dire che qualcuno ragazzi resta coerente però cioè qualcuno non cambia idea per esempio Ciacci la prima cosa che dice quando Marco se ne va dalla casa perché insomma sta troppo male è perfetto ragazzi un Marco ce lo siamo levati dai coglioni e poi la mia domanda è ma qual è l'altro Marco che si devono levare dai coglioni caltagirone purtroppo ragazzi per i concorrenti del grande fratello Vip ormai è troppo tardi e il pubblico ha visto ha giudicato e a questo punto si è infuriato come non mai cioè sul web scoppia la rivolta sono tutti indignati perché ormai è chiaro come il sole che Marco Bellavia sia stato vittima di un bullismo da branco dentro la casa del grande fratello Vip il pubblico chiede giustizia e gli sponsor si dichiarano schifati Amica Chips sponsor del grande fratello Vip rilascia un comunicato in cui scrive che si dissocia la marca di gelato 2A invia una nota ufficiale a Mediaset scrivendo che il comportamento dei concorrenti sia stato inaccettabile e lesivo fuori dagli studi di Cinecittà si piazza una donna con un megafono che si mette a urlare le seguenti cose persino Adriana Volpe che l'anno scorso era opinionista al GF Vip e soprattutto ragazzi che è amica di Ciacci pubblica questo video sui social in cui si dice sconvolta insomma da quello che sta vedendo succedere dentro la casa da quello che ha visto succedere dentro la casa ma cosa sta succedendo nella casa io non riconosco più nessuno non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria questa doveva essere l'edizione dell'inclusione della condivisione e invece abbiamo solo assistito a un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia sappiate che siamo tutti indignati nelle prime puntate abbiamo conosciuto Eleanor Ferruzzi la sua battaglia per essere stata discriminata ecco lei avrebbe dovuto comprendere il dolore di Marco e invece gli ha detto vai alla neurodeliri gli ha dato del disadattato e poi abbiamo conosciuto anche la storia di Ciacci sono anche stata ospite giovedì nel programma per dargli supporto e alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco è riuscito persino a dire ce lo siamo levati dai coglioni come è possibile Giovanni Carolina Marconi un'amica che mi ha dato consigli prima di entrare nella casa del GF ecco da donna che ha combattuto contro il tumore al seno che conosce il dolore ecco mai mi sarei aspettata una battuta come tu sei patetico Giovanni Carolina ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B o dolore di serie A e dolore di serie B Vilma Goic che dice sei la causa dei tuoi mali ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole Ginevra tu che hai detto si merita di essere bullizzato nessuno si merita di essere bullizzato e persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto sono state insensibili in questa casa tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco ecco per il resto tutti siete stati complici tutti siete stati fautori di questo allontanamento e la cosa più vergognosa è che quando l'avete salutato ci mancherai tanto tutti abbiamo capito quanto falsi siete a voi non mancherà ma per il pubblico sì e per il pubblico Marco Bellavia è l'unico vero vincitore di questa edizione insomma ragazzi scoppia lo scandalo è uno scandalo che tocca nel profondo tantissime persone che hanno storie simili a quella di Marco o che conoscono o hanno conosciuto da vicino qualcuno con una storia simile a quella di Marco in pratica ragazzi la totalità della gente la bufera in furia funesta quando giunge la puntata del 3 ottobre la puntata del 3 ottobre comincia con Signorini che fa un lungo discorso ai telespettatori dicendo che la colpa sia anche sua e della redazione perché neanche loro si sono accorti del malessere di Marco altrimenti sarebbero intervenuti tempestivamente dopo aver fatto tutto il discorso contro il bullismo Alfonso Signorini ragazzi apre il collegamento con la casa e si mette a cazziare i concorrenti come se fossero un branco di scolari somari maleducati rimproverandoli di avere scritto una brutta pagina di televisione dopo aver parlato in generale di quello che è successo Alfonso inizia a prendere i colpevoli uno per uno e li inizia a cazziare singolarmente il primo a essere bastonato è Giovanni Ciacci che oltre a comportarsi male in generale con Marco sempre e comunque senza mai avere il minimo tentennamento all'ultimo ha avuto proprio il coraggio di passargli davanti con indifferenza mentre lo vedeva piangere a terra capito e non è che Ciacci messo di fronte a questa cosa deplorevole che ha fatto si scusi e dica beh in effetti si sono stato una mer mi dispiace ho fatto passare un brutto messaggio al pubblico da casa chiedo scusa scusa Marco se t'ho ignorato in questo modo no niente di tutto questo ragazzi lui si giustifica dicendo che sedetevi di nuovo pensava che Marco stesse pregando niente signorini sbroccara qualsiasi cosa sarebbe più credibile pensavo stesse odorando la moquette pensavo stesse contando gli acari tra l'altro attenzione ragazzi Ciacci dice pure a signorini era impossibile per noi capire che Marco stesse così male Ciacci ragazzi ricordiamo era presente quando Geggia ha detto Marco ha un esaurimento nervoso Ciacci ha sentito Marco piangere per notti intere tant'è che l'ha nominato per questo io voto Marco perché mi ha svegliato stamattina alle 5 e mezzo piangendo Ciacci c'era quando Marco ha detto a tutti di stare male e di avere bisogno di aiuto durante la nomination precedente Ciacci c'era sempre ragazzi e ha visto e ha sentito e ora dice che era impossibile capire che Marco stesse male cosa doveva fare di preciso affinché si capisse scrivere una lettera di addio ah perché in tutto ciò all'ultimo ragazzi si era pure diffuso sto pettegolezzo nella casa che Marco facesse finta di piangere che simulasse la sofferenza per non essere squalificato durante il televoto ovviamente cavolate ragazzi perché comunque alla fine è uscito da solo a me è suonata come l'ennesima scusa per ignorarlo per non aiutarlo e non sentirsi degli esseri immondi per questo motivo perché nel dubbio secondo me tu intanto ci parli lo consoli gli stai vicino ed eviti lo scenario peggiore in cui invece è vero che sta male magari arriva a fare cose estreme poi tanto se quella di Marco è una strategia verrà fuori prima o poi comunque dopo avere cazziato Ciacci per bene Alfonso Signorini passa a Geggia e Geggia comincia a straparlare nel tentativo di giustificarsi mettendo una pezza che è peggio del buco perché dice allora io praticamente Alfonso la situazione è questa Marco è un depresso maniacale quindi capito ripete sempre le stesse cose dice sempre le stesse cose in quanto depresso maniacale che in altri termini ragazzi significa che ha un disturbo bipolare secondo lei per gli approfondimenti sul disturbo bipolare Kanye West saga ora scusami un attimo Geggia cioè io non ho capito bene forse se tu dall'alto delle tue competenze in psicologia hai capito che Marco fosse un soggetto bipolare palesemente quindi nella sua fase depressiva e tu lo hai trattato in questo modo cioè sei brava a fare diagnosi ma non sei brava a comportarti poi in modo empatico con una persona in fase depressiva perché cioè rivediamo un attimo come Geggia ha trattato Marco ragazzi ma sei matto? si ma sei matto ma si ma te va a quel paese ma a questo punto la mia domanda è ma Geggia tratti così tutti i pazienti o solo quelli depressi maniacali no perché forse Geggia hai dimenticato che una persona con disturbo bipolare rischia il suo 15 volte in più rispetto a una persona non bipolare secondo le statistiche quindi che cos'è una terapia d'urto o ti ripiglio t'ammazzi in questo schifo la mia gioia è Antonella ragazzi che sentendo dire queste cose a Geggia cioè che Marco sia un depresso maniacale ripete sempre le stesse cose si ricorda di quella volta in cui stava consolando Marco e Geggia gli è passata vicino e ha detto a Marco se stai male vattene da qua non è il posto per te vi ricordate questa scena e niente ragazzi c'è Antonella Sclera e interrompe Geggia per dirle proprio questo ce le dice scusami un attimo tu sapevi che Marco fosse depresso e gli hai detto se non stai bene esci da questa casa cioè ma esci tu da questo corpo cioè come un bulletto che va a dire al bambino bullizzato se non stai bene cambia scuola dice Antonella non hai empatia Geggia dice Antonella brava Antonella non so chi tu sia perché tu sia una VIP di preciso ma so che adesso sei una VIP dentro il mio cuore insomma ragazzi finita la ramanzina a Geggia Alfonso Signorini passa a cazziare Ginevra Lamborghini e le rinfaccia di avere legittimato il bullismo pronunciando la famosa frase ora Alfonso Signorini rimproverà Ginevra sottolineando in particolare una cosa una cosa importante ragazzi cioè che lei stessa abbia subito bullismo da adolescente è una cosa che a quanto pare Ginevra ha raccontato ad Alfonso in privato durante il retroscena prima di entrare al GF quindi le dice Alfonso che cacchio fai sai cosa significa essere bullizzati e dice a Marco che si merita e dici che Marco si merita il bullismo Ginevra ragazzi si dispiace ammette di aver sbagliato però in questa fase niente di che ma a un certo punto Alfonso comunica a Ginevra che per aver legittimato il bullismo è espulsa dalla casa del grande fratello Vip mi dispiace te la prende il culo e lei ragazzi la prende bene bisogna dire si mette a piangere in preda alla disperazione manco se signorini le avesse detto guarda ti hanno condannato all'ergastolo Ginevra si indiozza per un sacco di tempo vi giuro secondo me ore tipo praticamente rischia l'infarto e molti dicono che il pianto fosse finto perché Ginevra volesse solo fare pena così da risparmiarsi la shitstorm a supporto di questa teoria ci sarebbe il fatto che in pratica lei stesse piangendo senza le lacrime però secondo me non è vero ragazzi cioè secondo me lei è sinceramente disperata e lo capisco dalle sue parole perché le cose che dice le parole che sceglie di usare fanno emergere che lei effettivamente abbia capito l'errore e che pianga per i sensi di colpo poi perché non avesse le lacrime non lo so ragazzi magari aveva usato uno shampoo non lacrime però a me sembra sincera perché appunto vedendo la differenza tra le parole che usa lei è quella che invece usano gli altri concorrenti del grande fratello vip per consolarla c'è una differenza abissale ragazzi cosa le dicono gli altri per consolarla due cose le dicono in particolare tutte e due sbagliate analizziamole entrambe allora uno non lo abbiamo bullizzato questo significa che ancora qua nessuno ha capito una sega cioè signorini ha parlato otto ore di bullismo secondo loro così tanto per ammazzare il tempo ed ecco ragazzi ginevra a chi le dice per consolarla tranquilla non lo abbiamo bullizzato risponde male cioè proprio si arrabbia perché dice invece sì lo abbiamo fatto non avete idea di cosa abbiamo fatto abbiamo bullizzato Marco e dobbiamo ammetterlo perché abbiamo sbagliato il tutto sempre in preda alle lacrime ragazzi quindi da qui si capisce proprio che secondo me appunto lei non pianga solo perché voglia fare pena al pubblico altrimenti accoglierebbe volentieri questa depenalizzazione e si sentirebbe meglio nel sentirsi dire davanti a tutta Italia non lo abbiamo bullizzato due altra cosa che le dice il gruppo per consolarla è abbiamo sbagliato tutti e quindi perché questo dovrebbe far stare meglio una persona che si sente in colpa idealmente non dovrebbe ragazzi infatti con ginevra non attacca lei piange di più quando sente abbiamo sbagliato tutti al contrario tutti gli altri è come se si sentissero però fortificati da questo spirito di gruppo cioè questa cosa è che abbiano sbagliato tutti li fa sentire più forti questo ragazzi succede in tutte le situazioni in cui a commettere un'azione sbagliata è un gruppo e non un individuo da solo anche se le conseguenze sulla vittima sono le stesse anzi di solito il gruppo fa molto più danno a una vittima comunque chi fa parte del gruppo si sente meno responsabile del danno la colpa infatti è di solito percepita come una specie di torta se ce l'ha uno solo allora mia una torta grossa mentre se ce l'hanno in dieci giustamente ognuno ne ha una fetta più piccola della torta ma non è così che funziona nella realtà ragazzi qua semplicemente abbiamo tante torte una torta per Geggia una torta per Ciaccio una torta per Ginevra è una pasticceria quest'anno il grande fratello e per questo ragazzi sarebbe importante che non uscisse solo Ginevra ma che uscissero tutti e non in gruppo che si sentono forti no uno ad uno uno dietro l'altro cioè praticamente Alfonso idealmente dovrebbe fare una sfilata di squalifiche durante sta puntata per far sì che ognuno senta il peso della propria colpa e senta la vergogna così come sta sentendo Ginevra queste cose bisogna che ad ogni nome venga associata la parola bullismo Ciaccio ha commesso bullismo Ginevra ha commesso bullismo Geggia ha commesso bullismo eccetera e non il gruppo dei concorrenti del grande fratello ha commesso bullismo perché questo ovviamente ti fa comunque vergognare meno di quello che hai fatto non so se mi spiego aggiunzioni aggiunzioni del futuro ragazzi ve la ricordate la ex moglie di Marco Billavia Elena ok lei praticamente indignatissima cioè messa che mette stories contro contro Ginevra e che esulta per la squalifica di Ginevra ovviamente quando infatti hanno annunciato che Ginevra avrebbe abbandonato la casa del grande fratello Vippo Elena ha postato questa storia in cui scrive ciao ciao in seguito vedendo che gli altri concorrenti all'interno della casa del grande fratello stavano anche tentando di non lo so tirarle su il morale ha pubblicato quest'altra storia scrivendo ma la consolano anche con tre punti esclamativi che io leggerei tipo così infine ragazzi Elena pubblica quest'altra storia scrivendo sto leggendo tante cose troppe ricordate che dietro a tutto ciò c'è mio figlio un ragazzino di 15 anni Marco è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte ma nessuno in casa l'ha aiutato vergogna a me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà non di sotterrarle ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l'unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola una carezza un sorriso Antonella Fiordelisi deve vincere quest'edizione perché altrimenti mi vado a mettere fuori dagli studi di Cinecittà insieme alla regina di Roma a gridare Ginevra ragazzi esce dalla casa del grande fratello Vip in lacrime sicuramente ricevendo molto più supporto di quanto non ne abbia ricevuto Marco quando era lui a piangere disperato ma sorvoliamo e Ginevra prima di lasciare la casa del grande fratello Vip dice ho paura della gogna e della cattiveria della gente ci sta anche io ne avrei al suo posto però ragazzi attenzione questa sua frase ha fatto dire a molti spettatori aha allora piangi per questo non perché ti senti in colpa non perché hai capito che hai sbagliato no ragazzi secondo me anche qui non ci siamo perché il fatto che Ginevra abbia paura della gogna non esclude che contemporaneamente si possa sentire in colpa cioè secondo me lei piange per entrambe le cose anche perché insomma troppa tragedia sta facendo per essere uno solo il motivo Ginevra arriva in studio e la fanno entrare in condizioni pietose praticamente in preda a un attacco di panico selvaggio cioè tra l'altro Ginevra si paralizza non cammina non lo so forse si aspettava che il pubblico iniziasse a tirarle le pietre al punto che Signorini è costretto ad andarla a prendere lui stesso e a portarla in studio cercando di calmarla alla meno peggio insomma un altro spettacolo pietoso che molti hanno ritenuto inopportuno perché Ginevra secondo alcuni avrebbe dovuto essere consolata e calmata prima di farla entrare in studio anche qui ragazzi io mi sento di dire la mia un popular opinion oggi esageriamo con le un popular opinion secondo me è stato giusto così cioè è stato giusto che lei sia entrata sia stata lasciata libera di disperarsi la vergogna è un sentimento esiste e si può esprimere e il pubblico deve sapere che lei stia provando questo perché c'è più dignità nel mostrarsi in preda alla vergogna che nel dimostrarsi completamente indifferenti in una situazione come questa e purtroppo a differenza di Ginevra ragazzi gli altri concorrenti sono indifferenti a quello che hanno fatto a partire da Geggia Geggia proprio se la porta male infatti ragazzi quando signorini manda la pubblicità Geggia se ne esce con questa frase ma come si fa sentite nonostante ci siano i presupposti per squalificare tutti proprio per fare una squalifica di massa perché diciamo le cose come stanno ragazzi non è che perché Ginevra ha detto Marco si merita il bullismo sia più colpevole di chi il bullismo lo ha perpetrato con i fatti cioè lei ha sbagliato ma proviamo a chiedere a Marco di stilare una classifica di chi lo abbia fatto soffrire di più secondo me Ginevra non sta esattamente in cima comunque nonostante ciò solo Ginevra viene squalificata che è assurdo per me cioè praticamente viene usata come capro espiatorio solo lei guarda caso lei e guarda caso dopo che Elettra Lamborghini le ha mandato una diffida impedendole di parlare ulteriormente di lei e della loro lite in tv quindi tutti i piani di fare share con il drama tra le sorelle Lamborghini sono giusto appena sfumati e guarda caso viene squalificata lei ora ragazzi siccome la produzione lo sa che il pubblico non si accontenterà di una sola espulsione quella di Ginevra allora decide di squalificare anche qualcun altro tuttavia non prende la coraggiosa decisione di squalificare tutti non vuole fare la mega squalifica di Masta la produzione probabilmente perché questo dimezzerebbe la durata del programma visto che i concorrenti rimasti in gioco sarebbero tipo tre cioè Antonella George Luca basta e allora ragazzi cosa fai il grande fratello VIP elabora una strategia decide di fare sfogare il pubblico così da abbassare i livelli generali di rabbia come fare sfogare il pubblico facile basta dare a ciascun telespettatore una pietra e dirgli tieni scagliala contro chi vuoi tu decidi tu chi lapidare ed è così che viene aperto un televoto flash ragazzi Ciaci Ele Noir Gegia e Patrizia sono i bulli in nomination e il pubblico sceglierà chi eliminare tra loro che è tutto sbagliato cioè a parte che per me dovevano eliminare tutti e fare poco gli strateghi tutt'al più proprio chiudevano questa edizione qua perché ormai ha fatto troppo schifo facevano scorrere la graduatoria facevano entrare nuovi concorrenti e ricominciavano da zero ma a parte questo ma cioè come l'hanno composto questo gruppo di bulli cioè in questo televoto ci hanno messo dentro Eleonora e Patrizia per lo scambio di battutine che hanno fatto alle spalle di Marco e non ci hanno messo Charlie Gnocchi che ha detto queste cose e soprattutto ragazzi nel televoto non ci hanno messo Vilma che ha detto a Marco queste altre belle cose non ha alcun senso non ha nessunissimo senso cioè ci sono figli e figliastri allora in questa trasmissione vabbè il pubblico da casa vota ragazzi vi risparmio le ultime parole dei singoli concorrenti prima del verdetto finale anzi no non ve le risparmio allora Ciacci dice mi dispiace io non ci posso fare niente mi dispiace se ho offeso Marco quindi la pone come un'eventualità Ceggia invece dice io non potevo mentire a Marco e dirgli che stesse bene che c'entra non lo so ragazzi non fate domande perché non ho le risposte Ele Noir dice abbiamo detto tante cose brutte a Marco ma non in cattiva fede chi più chi meno gli siamo stati tutti vicini no si è visto comunque tutto questo supporto Marco non lo troverà mai manco alla neurodelile Patrizia invece ragazzi dice io non mi sento in colpa fine scusa allora alla fine di questo televoto scrauso esce Giovanni Ciacci ciao Ciacci ragazzi uscito dal GF dovrà fare i conti con una shitstorm molto feroce cioè per esempio l'altro giorno sono andata a vedere la sua pagina facebook così in cerca cioè facendo ricerche e sono dovuta scappare subito perché mi sono scombussolata per gli insulti assurdi che ho letto cioè ragazzi ma cioè non è che difendere una persona che ha subito bullismo significhi bullizzare il bullo cioè questa è la logica di giustizia privata addirittura Ciacci dice che nei primi giorni dopo la squalifica si è andato al supermercato e a parte che dice che lo guardavano tutti male e a quanto pare non per il colore del suo pizzetto uno gli ha proprio sputato in faccia quindi ragazzi mi sa che Ginevra faceva bene a piangere per paura dell'agonia comunque tornando al programma Ciacci esce ciliegina sulla torta già già dice di essere più dispiaciuta per l'uscita di Ciacci che per quella di Marco così a caso L'ordine degli psicologi infatti è talmente affascinato da questo personaggio che apre un'istruttoria contro di lei e attualmente sta verificando se ci siano i presupposti per radiarla l'istruttoria ragazzi è una prassi deve essere fatta per forza però io non ho molti dubbi sul fatto che Gegia verrà radiata dall'albo quindi giustizia in parte è fatta è sicuramente una cosa simbolica solo simbolica perché lei da quanto ho capito non esercita la professione da anni per fortuna aggiungerei però ragazzi è un gesto simbolico importante per far passare il messaggio che Gegia non rappresenti gli psicologi lei è il contrario dello psicologo lei è quella che manda la gente dallo psicologo ma l'ordine degli psicologi ragazzi non è l'unico a prendere provvedimenti infatti anche il Kodakons interviene in questa situazione il Kodakons ragazzi presenta un esposto contro la Mediaset chiedendo alla procura di Roma di aprire un'indagine nei confronti dei concorrenti del GFVIP ma anche nei confronti degli autori del GFVIP di Alfonso Signorini nonché di tutti i vertici di Mediaset accusando tutti quanti sono di violenza privata e di omesso soccorso se queste indagini partiranno pensate che qua un sacco di gente ci rischierebbe fino a 4 anni di carcere ragazzi compresi i concorrenti cioè ve li immaginate tutti i concorrenti del GFVIP sbattuti in carcere cioè ne uscirebbe un reality show tutto nuovo chi vuoi assolvere vota mandando un messaggio al 112 ora io non penso che questo accadrà mai cioè non penso che inizieranno mai delle indagini però anche questo esposto del Coda con te ragazzi ha un forte valore simbolico perché si sta diffondendo la notizia che il bullismo possa configurarsi come un reato non soccorrere una persona in pericolo è di fatto un reato e ciò che è reato viene giudicato come sbagliato dalle masse quindi sentendo questa notizia è possibile che molta più gente inizierà a fare più attenzione al modo in cui si comporta nella vita privata e si approccia alle persone con problemi di salute mentale quindi questo vedi Codacons che quando non te la prendi coi Ferragnez fai anche cose buone ma in tutto ciò ragazzi che fine ha fatto Marco Bellavia perché è tornato a casa comunque due giorni prima della puntata quindi sta a casa da tre giorni buoni e in studio non si è presentato ovviamente Marco ragazzi è appunto a casa con suo figlio e apparentemente dalle storie che pubblica su Instagram dice cioè sembra che sia meglio molto bene con Filippo doni un bacio con Filippo riuniti apriti apriti guarda che bella è questa cioè questa è una pianta pazzesca sai che pianta è? la pianta dei Danè sì più diventa grande quella pianta pare leggenda e più soldi si guadagnano vuol dire che siamo ricchi quindi insomma lui è sempre lo stesso è sempre molto propositivo depresso sì ma con stile nella puntata successiva a questa del GF VIP Marco Bellavia non si presenta in studio ma fa avere una lettera a signorini destinata ai suoi ex coinquilini e ovviamente ragazzi questa lettera ora noi la leggiamo caro Alfonso cara Orietta cara Sonia cara Giulia cara Pamela tra parentesi Orietta Sonia e Giulia sono tipo le opinioniste cari coinquilini anzi ex coinquilini ho guardato da casa la scorsa puntata l'ho guardata da casa mia e mi faceva una certa impressione osservarvi dall'esterno senza essere più con voi voi lì tutti agghindati pronti per la serata di gala e io nel mio letto a leccarmi le ferite di giorni di dolori che faccio fatica a dimenticare mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti e i vostri sorrisi forse eravate già pronti e lo capisco a voltare pagina e a dimenticare perché in televisione succede spesso così tutto si consume in fretta si cambia registro come niente però non è andata così mano a mano che i minuti passano e Alfonso continuava il suo racconto i vostri volti sono cambiati si sono materializzati i casi di Ginevra e di Ciacci per la prima volta sono state usate parole pesanti come branco bullismo per la prima volta si è parlato di indifferenza al dolore incapacità di rispondere a una richiesta d'aiuto il mio aiuto la mia richiesta d'aiuto e all'improvviso ho capito anche attraverso il vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande mettere a disposizione di chi ci guardava la mia esperienza di vita le mie debolezze i miei stessi demoni volevo lanciare un messaggio quello che solo insieme si può soffrire di meno solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile di fronte alle immagini che lunedì sera scorrevano davanti ai nostri occhi alcuni di voi erano imbarazzati altri indifferenti alcuni pietrificati dal dolore vi siete accorti tutti ad un tratto di quello che avevo provato di quello che era successo di quello che alcuni di voi avevano fatto un pugno nello stomaco tranquilli non giudico nessuno il giudizio spetta solo a Dio e alle nostre coscienze però presto tornerò a guardarvi negli occhi per un confronto sereno che aiuti a costruire completamente il messaggio che volevo lanciare non c'è bisogno di fuggire dalla casa come qualcuno di voi ha fatto si riferisce a Sara ragazzi quella che lo ha definito broccolo festacchiotto straluna che è uscita dalla casa perché non si sente rappresentata da questo ambiente in cui è avvenuto tutto ciò per chi ha visto il grande fratello si sto volutamente sorvolando la faccenda di Sara perché ci vorrebbe proprio un altro video per affrontare tutto ciò non c'è bisogno di fuggire dalla casa come qualcuno di voi ha fatto non c'è bisogno di rimanere nella casa facendo finta di niente come se nulla fosse successo come qualcuno di voi continua a fare c'è bisogno di dialogare di condividere se poi guardandoci negli occhi qualcuno li abbasserà beh non sarà colpa mia vi abbraccio Marco oltre la lettura di questa lunga lettera in questa nuova puntata del GFV ragazzi c'è finalmente un barlume di pentimento in Giovanni Ciacci caramba che sorpresa è arrivato il pentimento meglio tardi che mai Ciacci infatti durante la puntata si rivolge a Marco che è a casa gli chiede scusa tra l'altro vabbè non lo chiama manco per nome dice il nostro amico che ci guarda da casa e signorini gli dice Marco comunque Ciacci ragazzi dice una cosa sicuramente degna di nota dice io ho capito che purtroppo non avevo gli strumenti per rendermi conto che quello che facevo fosse sbagliato che fosse bullismo adesso ce li ho e ho potuto interpretare nel modo giusto quelli che sono stati i miei comportamenti e questo ragazzi è un discorso che trovo finalmente intelligente perché purtroppo è un fatto che la mancanza di consapevolezza su temi come il bullismo ci possa portare a comportarci da bulli senza volerlo e senza rendercene conto e per questo insomma ragazzi il fatto che si sia trattato questo argomento l'argomento del bullismo durante il grande fratello che comunque c'ha uno share c'è comunque viene guardato da tantissimi spettatori nella sua tragicità è un evento sicuramente importante sicuramente avrà l'effetto di diffondere un minimo di consapevolezza in più sul tema del bullismo comunque da quello che mi è sembrato Marco Bellavia non intende crocifiggere nessuno certo non penso che lo vedremo a un giro pizza con Ciacci e Ginevra però non penso neanche che gli farà causa Marco ragazzi al contrario mi sembra intenzionato a vedere il buono in questa situazione tanto è vero che in un video messaggio inviato ad Alfonso Signorini Marco ragazzi racconta che la gente per ora lo ferma per strada e gli dice lo sai anch'io soffro di disturbi mentali quindi insomma ragazzi per Marco come anche per me come per chiunque abbia mai fatto i conti con l'invisibilità dei disturbi mentali è importante che una fetta enorme di telespettatori come quella del GFVIP venga in qualche modo messa al corrente dell'esistenza di questi problemi e che insomma capisca anche come non ci si comporti assolutamente con chi ha un disagio psichico cioè in generale non ci si dovrebbe comportare così con nessuno ma insomma a maggior ragione cioè poi ragazzi vedere Alfonso Signorini che incita i propri telespettatori ad andare dallo psicologo e a non demonizzare gli psicofarmaci non ha prezzo cioè è un'esperienza mistica io non pensavo mai di assistere a una cosa del genere nella mia vita ma la cosa più mistica è che mentre Signorini fa sto discorso e dice quanto sia importante andare dallo psicologo quanto purtroppo si parli poco in televisione di queste cose geggia si emoziona tutta e comincia a dire sì esatto esatto Alfonso non se ne parla abbastanza di queste cose è vero è vero non si può uscire da soli dalla depressione hai ragione sì sì hai ragione ora la dovevi buttare fuori Alfonso ma ragazzi questo è quanto è successo a Marco Bellavia ok spero siate comodi perché sto per fare un'aggiunzione dal futuro abbastanza corposa infatti ragazzi il tempo che partorivo questo video Marco giustamente ha avuto tutto il tempo di elaborare il trauma guarire dal trauma risorgere dalle ceneri e decidere di tornare in studio al grande fratello VIP per andare a guardare in faccia i concorrenti che lo hanno praticamente costretto comunque messo nelle condizioni di sloggiare e andarsene abbandonare la casa del grande fratello Marco ragazzi ha fatto un ingresso in studio degno di massimo decimo meridio accolto da una standing ovation che praticamente l'ha fatto piangere nel giro di 8 secondi netti fatto il piantino iniziale signorini entra nella casa fa schierare i concorrenti che giustamente iniziano a preoccuparsi e invece entra Marco in casa Marco ragazzi fa ai concorrenti ancora in gioco un discorso veramente bello costruttivo toccante delicato cioè l'ho trovato incredibile perché io proprio sarei entrata e avrei semplicemente urlato voi brutti perfidi luridi schifosi scarafaggia lui invece è un signore addirittura in studio incontra i concorrenti che sono stati eliminati e quindi ragazzi Ginevra e Ciacci e pure Geggia che nel frattempo negli ultimi giorni nelle ultime puntate il pubblico ha stabilito che dovesse essere eliminata quindi è uscita pure lei perché il pubblico non dimentica insomma tutti quanti i ragazzi si scusano con Marco con lui faccia a faccia e lui li abbraccia parla con loro non scade mai nell'insulto però manco a questo giro si fa mettere i piedi in testa diciamo che a questo giro non si comporta da broccolo fessacchiotto stralunato però comunque non perde mai la compostezza per esempio a un certo punto Geggia la butta sul gaslighting e gli comincia a dire io ho provato sin dall'inizio ho provato ad aiutarti non è vero Marco dillo dillo che ho provato ad aiutarti all'inizio e Marco a questo punto molto gentilmente le dice sì ok diciamo che si suddivide cioè possiamo suddividere il mio percorso in due fasi all'inizio i primi giorni è stato tutto bello ma questo non toglie il fatto che nella seconda parte del mio percorso tu come tanti altri mi abbiate detto delle cose che sinceramente vi potevate risparmiare vi siete comportati male cioè che mi abbiate trattato male cioè che significa perché il primo giorno l'ho trattato bene allora pure che ti tratto con i piedi nei restanti venti giorni allora va bene te l'abbono perché sei incensurata niente ragazzi piovono applausi per Marco in studio quindi penso che Marco Bellavia tutto sommato sia definitivamente tornato ad essere un personaggio televisivo quindi Marco che dire mosce ripigliamo tutto quello che ho nostro scusate con i napoletani non sono napoletana quindi sono ridicola se posso fare solo una critica a Marco secondo me invece di fare tutta la sceneggiata chiamandosi Pamela a parte questa stessa sceneggiata avrebbe dovuto farla con Antonella Fiordelisi perché cioè capisco che comunque la vuoi frequentare però Pamela non è stata proprio una santa dentro la casa del grande fratello anzi Pamela a Marco ha dato proprio la stangata anzi la stangata iniziale che lo ha fatto proprio sprofondare quindi ok va bene ci sta che l'hai perdonata però insomma trattarla in modo privilegiato solo perché te la vuoi bombare non mi pare opportuno non mi pare un bel messaggio da lanciare al pubblico piuttosto avrei dato a Cesare quel che è di Cesare a Dio quel che è di Dio ad Antonella Fiordelisi quel che è di Antonella Fiordelisi anche perché ragazzi quello che non vi ho detto è che il giorno dopo che Marco se n'è andato Antonella era tipo tutta preoccupata spaventata voleva chiedere alla produzione dove fosse Marco perché diceva secondo me gli è successo qualcosa di grosso e non ce lo stanno dicendo quindi insomma cioè veramente l'unica che si è preoccupata per sto povero Cristo comunque fatta questa dovuta aggiunzione ragazzi mi sembra anche importante precisare che a differenza di Antonella Fiordelisi Charlie Gnocchi l'amico di Marco Charlie Gnocchi abbia continuato imperterrito a parlare male di Marco addirittura si è permesso di dire che Marco sia un bugiardo perché in sostanza se non sbaglio nel video messaggio non so dove comunque Marco ha detto che pure alcune cose che ha detto Charlie non gli siano piaciute ed ecco Charlie ha commentato questa cosa chiacchierando con gli altri coinquilini dicendo no ma cioè lui non dice la verità io lo so lo conosco fa questi discorsi che sono così poco lucidi dice queste cose senza senso perché non gli funziona la centralina e quindi una persona così non dice la verità cioè lui vuole far passare Marco per pazzo e per bugiardo in modo da negare che lui abbia fatto cioè che anche lui abbia avuto un ruolo nel farlo stare male nel fargli bullismo che dire mi fa pena perché evidentemente nessuno gli ha detto che ci sono le telecamere detto questo torniamo al presente a che ne pensa di sto casino chi sta fuori dalla casa fuori dalla casa prendono parte alla polemica tantissimi personaggi a cominciare dalla ex moglie di Marco vi ricordate di Elena Elena ragazzi rilascia qualche intervista dicendo che boh lei non sapeva niente di sti problemi mentali di Marco lui fuori dalla casa era allegro e comunque lo hanno valutato due psicologi prima di entrare la dichiarazione di Elena non vuol dire nulla perché Marco aveva sofferto di depressione molti anni prima semplicemente ha avuto una ricaduta all'interno della casa non è che si è entrato depresso cioè non è che fosse depresso durante i provini però ragazzi tanto basta insinuare il dubbio che Marco abbia simulato una depressione e come spesso accade sul web qualcuno inizia a fare il processo alla vittima c'è in particolare un post di ale digitale che diventa virale cosa che fa pure rima praticamente questo giornalista di The Post internazionale dichiara di avere condotto un'inchiesta su Marco Bellavia niente di meno indagando nel suo losco passato e cosa ne è venuto fuori che Marco sia un complottista negazionista e che Marco offrisse servizi di mental coaching senza avere una qualifica insomma ragazzi senza troppi giri di parole in questo post ale digitale paragona Marco Bellavia a Vanna Marchi cioè insinua che Marco Bellavia abbia finto all'interno della casa di avere la depressione solo per incrementare le vendite delle proprie sessioni di mental coaching un post che io personalmente ragazzi ho trovato orribile io non so nemmeno com'è che sta sciacallata sia stata così tanto apprezzata cioè se io fossi Marco Bellavia querelerei questa persona e non lo dico mai perché io capisco la critica a Marco Bellavia fondamentale la critica in questo mondo fondamentale che ci sia una voce fuori dal coro che fa il bastian contrario e sostiene l'opposto di ciò che sostiene la massa ciò che non capisco è la totale assenza in questo post di una critica a Ginevra a Ciacci a Vilma a Geggia a tutti gli altri che hanno fatto i bulli con Marco cioè se Marco è Vanna Marchi perché ha provato in passato a fare il mental coach senza avere la qualifica i concorrenti del GFVIP chi sono l'Isis come minimo ragazzi secondo me era necessario specificare in questo post che comunque niente giustifichi il comportamento ottenuto dai concorrenti invece no tutto in questo post e ora lo leggiamo ragazzi fa pensare che chi l'ha scritto sia d'accordo con la frase di Ginevra Marco Bellavia se lo meritava il bullismo perché Marco è come Vanna Marchi perché lui voleva vendere il mental coaching perché lui ha mentito perché lui è complottista perché lui nell'anno del signore 2018 scriveva che la Brexit fosse giusta è assurdo ragazzi stiamo decisamente focalizzando l'attenzione sulla questione sbagliata perché ok poniamo pure il caso che Marco Bellavia sia veramente un impostore e che abbia messo in piedi un teatrino dentro il GF VIP fingendosi depresso così da attirare clienti in cerca di un mental coach che poi non ho capito in che modo essere depresso avrebbe dovuto attirargli i clienti cioè semmai li allontani se sei depresso della serie non ti sai aiutare da solo e devi aiutare me non mi pare una grande pubblicità vabbè comunque mettiamo il caso che sia andata così i concorrenti ragazzi non lo potevano sapere che lui stesse fingendo non penso che fossero messi d'accordo cioè che in questo complotto ci sia anche il pensiero che i concorrenti si fossero messi d'accordo con Marco quindi comunque hanno agito da bulli contro una persona depressa e questo è quello che è passato in tv bullismo contro una persona depressa e non basta avere il sospetto che qualcuno sia un impostore per ignorarlo mentre sta per terra a singhiozzare o per insultarlo perché passa la notte a piangere perché e se invece ti sbagli chi te lo dà il diritto di stabilire che uno stia fingendo e soprattutto chi ti dà il diritto di punirlo col bullismo chi ti dà il diritto di bullizzare un impostore non è etico comunque non è corretto a prescindere è un comportamento da scoraggiare a priori anche perché ragazzi ripeto immagine che passa in televisione persona depressa bullizzata dai compagni in quanto depressa fine ed è da biasimare basta questa scena non c'è da ricercare nel passato della vittima per vedere se magari non se lo meritasse il bullismo e non c'è da ricercare nel passato di Marco Bellavia per vedere se uno come lui sia effettivamente depresso ma poi scusami perché un complottista negazionista che votava per la Brexit non può essere depresso non può soffrire di depressione necessariamente allegro comunque ragazzi io nel dubbio il post ve lo leggo così poi giudicate voi e vi fate la vostra idea perché ripeto è stato veramente molto apprezzato questo post mi è piaciuto così tanto che manco l'ho stampato pensate voi adesso me lo devo andare a cercare complottista negazionista sedicente curatore ecco il vero volto di Marco Bellavia quindi abbiamo qua l'intenzione di sputtanarlo perché? perché è stato vittima di bullismo al grande fratello altrimenti non se lo sarebbero mai calcolati quelli di tipo quindi insomma stanno letteralmente prendendo una vittima e vogliono fare il grande scoop dimostrando che in realtà la vittima sia una brutta persona molto etico dal volto di Bim Bum Bam mental coach la parabola di vita di Marco Bellavia è piuttosto curiosa finito nell'occhio del ciclone mediatico dopo la sua uscita volontaria poche settimane fa dalla casa del grande fratello Vip per via del suo disagio mentale e del bullismo subito dai compagni di gioco in questi giorni Bellavia ha raccolto la simpatia di tutti i media oltre che centinaia di migliaia di persone quindi ovviamente smontiamo questa simpatia già tra le righe lo sto leggendo i suoi numeri social sono infatti schizzati alle stelle dopo la vicenda del GF VIP su Instagram vanta più di 170.000 follower la sua pagina Facebook ha raggiunto quasi 30.000 mi piace su Twitter sono quasi in 5.000 a seguirlo mentre il suo canale Telegram conta più di 2.000 iscritti numeri triplicati e in alcuni casi decuplicati a seguito della popolarità improvvisa ma forse calcolata donatagli dal reality show di Canale 5 quindi prima prova prima prova del fatto che sia una persona di merda qual è? il fatto che è uscito dal grande fratello un sacco di persone l'abbiano seguito vabbè andiamo avanti supportato osannato e spesso strumentalizzato da tutti i giornali da quale volfito VIP e anche personaggi politici Marco Bellavia si è presto trasformato nel martire perfetto il simbolo della battaglia per la salute mentale tema importantissimo e molto attuale eppure snobbato da tutti i partiti durante l'ultima campagna elettorale Bellavia dice di aver attraversato momenti bui e difficili durante la sua vita e di soffrire di depressione questo lo avrebbe portato a diventare un mental coach 4.0 per aiutare le persone a vivere bene ed essere felici si legge sul suo sito non solo l'ex conduttore sarebbe un life coach a 360 gradi tanto da definirsi mental bike mental tennis mental golf mental papà mental sci mental smoke un tuttologo insomma la domanda sorge spontanea Marco Bellavia ha un attestato una certificazione che dimostri tale titolo si si esatto era questo il punto proprio questo sul sito e sui suoi canali social non c'è traccia di tale documentazione e anzi in un passaggio è lui stesso a scrivere che da 30 anni porta avanti una missione seppur non certificata abbiamo fatto anche una ricerca sul sito dell'associazione italiana coach professionisti AICP la più grande in Italia ma il suo nome non compare e poi c'è uno screenshot di un un'immagine del suo blog tratta dal suo blog che dice vuoi diventare una mamma quasi perfetta scommetto di sì ti aiuto io infatti c'è scritto grafica presente sul sito di Marco Bellavia il Marco di oggi o meglio quello post GF VIP si presenta come una persona pacata conciliante e gentile eppure basta tornare indietro di qualche mese o pochi anni sui suoi profili social per scoprire chi si nasconde davvero dietro quest'anima bella e pura il profilo di un negazionista complottista contro i poteri forti pro brexit e anti euro in particolare c'è un suo commento a un post oggi non più visibile per aver violato gli standard di facebook in materia di violenza e istigazione alla violenza che Bellavia mostra con orgoglio in un video youtube bla 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 è quello del rogo ragazzi al rogo i ladroni incompetenti eccetera sto sorvolando perché avevo letto questo post nella parte iniziale del video poi l'ho tagliata però questa parte quindi adesso ve lo leggo praticamente in un post facebook che gli è stato appunto eliminato per incitazione istigazione all'odio Marco Bellavia scriveva al rogo ladroni incompetenti i politici italiani sono degli assini bastardi i nostri vecchi a marzo in migliaia sono stati uccisi con ossigeno nei polmoni ora stanno continuando col resto al rogo questo lo scriveva nel sì nel 2021 un post normalissimo sulla mia bacheca facebook che poi non era manco un post era un commento non so lasciato da quale parte nella selva del facebook dico di cattivissimo gusto senz'altro non ho capito però quale sia il nesso tra il bullismo subito e il fatto che lui scrivesse queste cose cioè continua a sfuggirmi in questo collegamento nel paese di vanna marchi e stefania nobile tutto questo non dovrebbe sorprenderci ma cosa sta insinuando ma come ti viene in mente di tirare in ballo vanna marchi no ragazzi quello che invece sorprende è la nostra incapacità di riconoscere i segnali di una truffa è finire di nuovo nella trappola della guarigione miracolosa anche se sono cambiati i tempi e gli strumenti la filosofia alla base di questi servizi è sempre la stessa vendere qualcosa che non esiste come la perfezione o una soluzione veloce indolore ai problemi il modus operandi di bellavia è però ancora più subdolo addirittura di quello di vanna marchi il vero scopo del suo progetto non è chiaro fin da subito non accusa mai direttamente i medici e gli psicologi di non saper fare il loro lavoro ma induce subdolamente le persone a crederlo e vedi tu come facendosi insultare da una psicologa proprio tutto studiato tutto calcolato per questo Marco Bellavia è un personaggio pericoloso questo post è pericoloso cioè questo post appiattisce completamente la complessità di quello che è successo perché uno può essere pure una persona non lo so non proprio perfetta può essere pure una persona che ha sbagliato in tanti momenti della sua vita ciò non implica che sia solo quello cioè ciò non implica che non possa soffrire di depressione ciò non implica che non possa soffrire in una situazione come quella che ha vissuto al grande fratello VIP ma poi come avrebbe fatto lui a mettere in piedi questa cosa come poteva prevedere che gli altri lo avrebbero trattato in questo modo se lui avesse fatto il depresso una truffa la beatificazione mediatica messa in atto in questi giorni dai giornali dalla tv e dal grande fratello VIP stesso che non si sono preoccupati di fare le dovute verifiche sulla sua persona sulla sua storia e sulla sua attività è stato il favore più grande che potessero fargli la visibilità e i numeri raggiunti adesso sui social potranno infatti essere facilmente convertiti in potenziali clienti si tratta di persone per lo più fragili affette da disturbi sole o impaurite che credono di trovare nel mental coach 4.0 la soluzione a tutti i problemi della loro vita senza accorgersi invece di star cadendo nell'ennesima trappola di un imbonitore senza scrupoli praticamente Putin gli fa una pippa va bene dopo aver scoperto che Marco Bellavia sia un terrorista sotto mentite spoglie possiamo andare avanti comunque vorrei aggiungere una cosa io sono sicura abbastanza sicura che Marco non abbia simulato la depressione mi sento di espormi in questo senso perché il suo linguaggio del corpo l'ho riconosciuto in modo inequivocabile per esempio l'ho visto spesso inter... cioè fare questa cosa di interrompere l'interlocutore enfatizzando all'improvviso sia il suo tono di voce che il suo modo di gesticolare questa cosa proprio l'ho sentita ragazzi Marco non lo faceva perché non stesse ascoltando come diceva Geggia ma perché non voleva piangere secondo me e quindi interrompeva l'interlocutore nel momento in cui si commoveva e cambiava discorso e boh gesticolava potente perché questo gli permetteva di scaricare la tensione e parlava anche con un tono più alto rispetto all'interlocutore non per coprire la voce dell'altro perché non lo volesse ascoltare ma per non fare tremare la propria di voce certe cose non mentono ragazzi tra noi disturbati ci riconosciamo con poco modestamente quindi ale digitale meno netflix e più empatia ma per fortuna ragazzi c'è anche chi invece di fare il processo alla vittima si schiera dalla sua parte quasi tutti in realtà diciamo la verità e tra questi c'è persino alex belli si ragazzi esattamente lui proprio quell'alex belli che l'anno scorso al gfvip ha piazzato due corna così alla moglie in diretta nazionale con suleil alex belli scrive su twitter lo spettacolo finisce nel momento in cui ci si dimentica dell'umanità fare intrattenimento è un'altra cosa esatto diglielo tu alex che cos'è fare intrattenimento meno bullismo più chimica artistica parliamo tanto di patologie malattie di parità ma quello che stiamo vedendo non è nient'altro che ottusità e disumanità riflettiamoci e mentre ci riflettiamo ragazzi passiamo a Rocco Siffredi cioè non nel senso non in quel senso praticamente ragazzi Rocco Siffredi ha detto la sua sull'argomento cioè lui ha criticato aspramente il comportamento dei concorrenti del GFVIP scrivendo su twitter ciò che si è verificato al GFVIP nei confronti di Marco è inaudito la cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast non è questa la televisione che si meritano gli italiani esatto bravo Rocco tanto di cappella ragazzi però seriamente lo vogliamo sostituire il GFVIP con il Siffredi Late Night o dobbiamo continuare a vivere nel medioevo per sempre sarebbe progresso vero nel frattempo sui social circola pure la mamma di Ginevra che continua a scrivere tweet in difesa della figlia implorando la gente di smettere di insultarla scrivendo che Ginevra sia sconvolta che sia dispiaciuta ora ragazzi in tutto ciò pensate che mentre Marco è a casa mentre Ginevra e Ciacci subiscono la gogna in questo clima ci sono tutti gli altri bulli dentro la casa del GFVIP ignari che si fanno i propri porci comodi e che hanno pure la possibilità di vincere un monte premi da sogno alla fine di questo circo io ragazzi la trovo una cosa disgustosa ah devo aggiungere una cosa in conclusione ragazzi prima che me lo scordo non si è parlato più di quello che Ginevra ha detto prima di dire lui si merita il bullismo ovvero Marco tocca cioè lei stessa non ha più minimamente menzionato la cosa questo mi fa supporre che effettivamente la mia teoria fosse corretta cioè lei non intendeva questo lei intendeva questo comunque ragazzi tiriamo le fila allora io qua non ho potuto fare a meno di notare che di anno in anno la situazione si aggravi al grande fratello quest'anno al gfvip siamo definitivamente usciti dal campo del trash e siamo entrati nel campo del reato quindi alla prossima edizione se la produzione non alza un pochettino il livello ci scappa il morto o comunque qualche cosa grave come è successo in brasilia alla fazenda con daianimello ora ragazzi io ho osservato e ho riflettuto e quello che ho pensato è la seguente cosa c'è una parte di me ragazzi che pensa che signorini si sia veramente impegnato poverino quest'anno per trovare personalità sensibili ingaggiando gente con una storia difficile proprio perché in teoria queste persone cioè non solo perché avevano una storia da raccontare ma anche perché queste persone in teoria si sarebbero dovute dimostrare un attimino più sensibili più solidali con il prossimo se avrebbero dovuto creare secondo me un gruppo più bello più affiatato però non è successo quindi io ragazzi ho una teoria dove voglio arrivare secondo me il gfvip è da cestinare proprio come idea la versione la versione vip non va bene c'è questa storia di dover selezionare per forza i concorrenti tra i vip restringe troppo il cerchio ragazzi tanto è vero che molti vip non sono vip cioè al massimo sono figli di fratelli di e onestamente ragazzi secondo voi quanta scelta possono avere i produttori pochissima sicuramente in alcuni casi i signorini si ritrova a selezionare personaggi che non avrebbe mai preso solo perché comunque c'è poca scelta e allora si accontenta dei candidati meno peggiori ecco e questo me lo fa pensare anche il fatto che non abbiano fatto la squalifica di massa come se non avessero già pronte altre 5-6 persone da infilare al grande fratello come rimpiazzo e nei reality di solito succede questo pensiamo a in Tession Island quando le coppie cominciavano a chiedere il falo di confronto tutte già nella prima settimana facevano entrare altre tre coppie per esempio quindi a questo punto sarebbe meglio tornare al grande fratello Nip e togliere sta cafonata dei VIP tanto se uno è il figlio di il fratello di al GF Nip secondo me ci può andare lo stesso che tranquilli non lo riconosce nessuno voi non lo dite non se ne accorge nessuno a meno che non ci mettiate Aurora Ramazzotti passa in sordina però insomma secondo me ragazzi appunto avere un margine di scelta più ampio durante i casting consentirebbe di scegliere persone più genuine per esempio persone che possono veramente portare un valore aggiunto al programma mi è finita la voce e in ultimo ma non meno importante persone che ancora hanno qualche remora di fronte alla telecamera e che si vergognano delle telecamere che male secondo me non fa cioè ripeto la vergogna secondo me è un sentimento troppo sottovalutato al grande fratello ultimamente eppure è un sentimento necessario che ci mette un po' in guardia dal comportarci in modo ripugnante quindi ragazzi questa è la mia umile soluzione il mio umile parere diciamo però che comunque per me resta il piano B perché comunque il mio piano A è chiudere il GF VIP e soprattutto rimpiazzarlo con il reality di Rocco Siffredi gli ultimissimi aggiornamenti sono comunque che Marco si mostra molto tranquillo nelle stories è sempre con suo figlio tifa tantissimo per Pamela che al GF VIP si è scusata con Marco ha detto in lacrime di essersi fatta condizionare dagli altri concorrenti che l'avevano convinta ingiustamente del fatto che Marco la prendesse in giro e soprattutto ragazzi Pamela in diretta nazionale ha dichiarato che fuori dalla casa del grande fratello vorrà uscire con Marco bella via e frequentarlo insomma secondo me questi due finito il GF si sposano Pamela ha finalmente trovato il suo Mark ditemi voi se la pensate come me e a tal proposito ragazzi sono mesi che mi chiedete insistentemente un riassuntone sul vecchio scandalo di Mark Caltagirone e ultimamente visto che nel frattempo c'è stata Pamela Prati che ne ha parlato al GF VIP siete tornati a insistere sulla cosa io voglio capire ma siete seri desiderate veramente questa cosa oppure mi sottopongo a suo abuso mentale e poi il video ve lo vedete in quattro perché io il pensierino ce lo faccio però voi fateci il pensierone insomma ragazzi fatemi sapere nei commenti a questo punto mi sa che vi saluto ragazzi scendo appunto giù nei commenti a chiacchierare un pochino con voi a contare quante case avete tirato fino a questo punto ragazzi tirate case se vi siete indignati tanto vi ricordo a questo punto ragazzi che se volete sostenere il canale potete farlo offrendomi un caffè digitale virtuale su Ko-fi attraverso il link che vi lascio giù nell'info box oppure usando il tasto grazie qui sotto che si è inventato youtube ogni tanto vi ricordo questa nuova funzione di youtube e a questo punto ragazzi vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto è stato bello ragazzi ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale vado a fare una radiografia alle gambe a voi la linea a voi la linea